Sono rega l'audizione del Dottor Ramberto Giannini, del Dottor Eugenio Spine e del Dottor Federico Boffi, dirigenti e funzionali della Polizia di Stato, che ringraziamo per la cortese con disponibilità con cui hanno accolto il nostro invito ad intervenire oggi in Commissione. Come ricorderete, l'audizione di questa sera fa seguito alla seduta del 10 giugno 2015, dedicata all'illustrazione degli esiti di alcuni accertamente affidati dalla Commissione alle competenti strutture della Polizia di Stato, che desiderano ancora una volta ringraziare per l'efficace contributo che stanno assicurando all'inchiesta parlamentare. In quella occasione venne presentata una dettagliata relazione riguardante la dinamica della strage di Veafani e tra alcuni profili connessi. In considerazione dell'ampiezza e della complessità delle informazioni contenute nella citata relazione, alcuni componenti della Commissione hanno manifestato l'esigenza di un approfondimento da svolgere nel corso di un'ulteriore addizione. Abbiamo perciò chiesto al Dottor Giannini, al Dottor Spina e al Dottor Boffi, che hanno prontamente aderito la cortesia di partecipare a questa seduta. Prima di dare la parola ai componenti che desiderano intervenire per formulare i quesiti, ritenguto richiedere al Dottor Giannini di illustrarci due aspetti meritevoli di attenzione. Il primo riguarda la metodologia seguita nello svolgimento degli accertamenti affidati dalla Commissione alla Polizia di Stato. Si tratta di un tema già parzialmente affrontato nel corso della seduta a dieci giorni, sul quale tuttavia è opportuno ritornare brevemente anche per scomprare il campo da possibili equivoci circa le modalità con la quale sono stati eseguiti gli incarichi ricevuti. Il secondo profilo di interesse concerne invece il rapporto, dal punto di vista tecnico, poi risponderà nel merito, nelle domande, tra ricostruzione della dinamica della spreage realizzata sul nostro incarico della scientifica e i risultati esposti nelle perizie svolte precedentemente nel corso degli anni, sia in campo balistico che medico legale. Se eventualmente nel corso della disposizione generale o delle domande, se ne sono necessarie, andate in seduta segreta, ci andremo. All'inizio io vorrei fare solo due precisazioni che avverto il dovere morale e personale di dover fare. La prima è che noi abbiamo chiesto perizie non a quattro amici che ci hanno dato la loro disponibilità, ma come nell'incarico istitutivo della Commissione abbiamo chiesto alla Polizia di Stato che negli accordi presi con il Capo della Polizia ha individuato un funzionario delegato a mantenere i rapporti e alla Polizia di Stato in quanto tale a fare le indagini da noi delegati. Dico questo perché le relazioni fatte sono le relazioni fatte dalla Polizia di Stato. Perché mi soffermo su questo? Perché credo che molti colleghi come me hanno visto che su alcuni siti si è avviata una campagna che va al di là della legittima e sempre utile differenziazione di opinioni o di interpretazioni. Ma quando la legittima differenza di opinioni diventa la personalizzazione della critica a chi per conto nostro ha fatto quotidianamente fino a un giorno prima di andare in maternità l'ufficiale di collegamento con la Polizia di Stato della Repubblica Italiana dovrebbe essere sbattuta su vari siti come un soggetto che fa le cose con leggerezza per averci fatto la cortesia di riferire le indagini che la Polizia di Stato della Repubblica Italiana ha fatto, credo che questo sia qualche cosa che personalmente, ma credo che tutta la Commissione debba con me censurare e ritenere che questa tipologia di atteggiamenti non appartengono allo stile di una Commissione che intende trovare la verità. Le divergenze sono legittime, le opinioni sono legittime, ma come è nel termine l'ufficiale di collegamento è colui che tiene i rapporti con la Polizia di Stato della Repubblica Italiana che da noi delegata svolge indagini. Quando si eccede rispetto alla personalizzazione, all'accusa o all'attacco, credo che vada stigmatizzato che tutto questo è qualcosa che non rientra nello stile di un comportamento corretto, vista le regole dell'ingaggio che ci siamo dati e la divulgazione e l'appropriazione di quelle deleghe da chi le ha avute per conto dell'indagine della Polizia di Stato della Repubblica Italiana. Questo l'ho voluto fare in premessa, molti colleghi sanno a qualcosa che mi riferisco, quelli che non lo sanno non è da farci un caso, però credevo che da parte mia fosse giusto perché se noi abbiamo tre ufficiali di collegamento che mantengono il rapporto con i Carabinieri, la Polizia e la Guardia di Finanza e sono poi i Carabinieri, la Polizia e la Guardia di Finanza della Repubblica Italiana che fanno per conto nostro le indagini, si può dissentire, ma non si può di certo attaccare coloro che riferiscono il frutto di quell'indagine che come tale ne è responsabile la Polizia di Stato e non la persona che legge le relazioni. Detto questo lascio la parola al Dottor Giannini e poi passiamo alle domande. Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la prima domanda del Presidente circa la metodologia utilizzata nei nostri accertamenti faccio alcune precisazioni. In primo luogo noi abbiamo agito in base alle deleghe e muovendoci nell'ambito delle indicazioni e degli accertamenti che venivano espressamente richiesti. Faccio tesoro del richiamo che adesso ha fatto il Presidente a questo sito, a queste indicazioni per fare un punto sulla nostra metodologia di indagine perché sostanzialmente è apparsa l'accusa assolutamente dal nostro punto di vista banale ma anche falsa che le attività investigative siano molto limitate. Faccio un esempio banale. Per quello che riguarda il Bonanni ci si è detto che perché è stato a un certo punto chiesto al Bonanni se avesse mai avuto rapporti con i servizi di sicurezza e sarebbe bastato questo a escludere collegamenti o rapporti del Bonanni la persona che ha parcheggiato la macchina, la Mini Morris, in via Fanni con i servizi di sicurezza. Le cose non stanno così. La metodologia che noi abbiamo seguito per eseguire gli accertamenti è assolutamente complessa e a mio avviso accurata. Noi abbiamo effettuato informazioni, attività informative sulle persone per quello che risultava ai nostri atti, abbiamo effettuato verifiche sulle società che facevano riferimento a queste persone e poi nel caso specifico prima di muoversi a fare ulteriori verifiche visto che la condotta che aveva portato, sospetto, era quella di aver parcheggiato l'autovettura in via Fanni in un punto solitamente occupato da un fioraio e che oggettivamente avrebbe potuto rendere difficile uno spostamento della macchina fermata abbiamo cercato di capire se il parcheggio effettuato in quel posto fosse un fatto abituale, normale, giustificabile come un parcheggio che si fa normalmente ovvero fosse un caso eccezionale che non capitava mai e poteva far venire qualche sospetto. Da questo punto di vista noi abbiamo accertato non solo la disponibilità di un appartamento in via Mario Fanni 109 da parte di questa persona abbiamo rintracciato un teste che poi la compagna, poi divenuta moglie di questa persona che erano insieme e ha confermato le circostanze, anche il possesso dell'appartamento ma addirittura abbiamo accertato che il fatto che avesse un appartamento la disponibilità di un appartamento in quel palazzo non era poi così strano visto che i genitori, la madre in particolare, era socia della società che aveva costruito quel palazzo erano una famiglia di costruttori. Detto questo abbiamo fatto ulteriori accertamenti sulla società di cui la macchina era intestata la immobiliare Poggio delle Rose C'era vasta letteratura che indicava come questa autovettura fosse di una società fiduciaria dei servizi Fatti gli accertamenti sulla composizione di questa società, di questa immobiliare Poggio delle Rose siamo andati ad acquisire il bilancio del 78 per poter verificare se questa società avesse una qualche forma di attività oppure non avesse nessuna attività. Questa acquisizione ha dimostrato un'attività non solo ma anche il fatto che c'era stata un'uscita di denaro per l'acquisto di un'autovettura che poi era quella che era intestata all'Appoggio delle Rose. Abbiamo poi verificato una circostanza che era nota anche a me per indagini che ho fatto tanti anni dietro nelle vicende dei cosiddetti fondi neri del SISDE e vale a dire che a Piazza della Libertà avevano in qualche modo sede, società o che avevano a che fare con i servizi. Abbiamo approfondito questo aspetto e abbiamo accertato, verificato che la società immobiliare Poggio delle Rose era una società che aveva affidato la cura dei propri conti a una fiduciaria di revisione, la FIDREV che aveva spostato più sedi fino ad arrivare a questo palazzo in Piazza della Libertà 10 e secondo l'abitudine, si spostava questa società e quelle di cui controllava i conti spostavano la sede legale nella società fiduciaria. A questo punto, dalle verifiche e anche da fonti aperte, sono emersi riscontri di effettivi rapporti tra la FIDREV e i servizi di sicurezza, in particolar modo il SISDE e abbiamo rintracciato in audizioni in precedenti commissioni parlamentari del fatto che questa società, la FIDREV, aveva curato per esempio la gestione dei conti del SISDE per diversi anni, mi pare, dalla fine del 78 e tra questi aveva curato i conti di società di copertura del SISDE. Queste cose sono state puntualmente segnalate alla Commissione e abbiamo anche fatto presente che siccome questa FIDREV era società attiva fin dal 1941 e da una prima verifica sulla quantità e la mole di carteggio era una cosa molto complessa e che a nostro avviso richiedeva del personale e dei tecnici assolutamente specializzati, abbiamo segnalato questa evenienza per approfondimenti che mi risulta poi siano in atto delegati all'uscito della Guardia di Finanza. Quindi appena è emerso qualcosa che noi ritenevamo opportuno verificare è stato opportunamente segnalato all'Ufficio di Presidenza. In questo, sempre in questo sito, viene sbeffeggiata anche il fatto di aver fatto la domanda ai diretti interessati circa rapporti o presunta partecipazione. Non c'è bisogno di continuare a parlare del sito. Diamo delle sposte. No, il sito non ce ne frega niente. Il sito l'ho fatto. No, il sito, faccio presente, perché chi l'ha non letto il riferimento che ha fatto la dottoressa Dintisona è una questione che andava fatta e a cui la Commissione non può non associarsi. No, ma io non sto rispondendo al sito. Non lo cito e evito di citarlo, però sto parlando della metodologia di indagine. Se decidiamo di chiedere dell'appartenenza di un soggetto ai servizi dopo tutta questa attività, non è un'ingenuità aspettando che chiaramente la persona potrebbe negare o potrebbe dire qualcosa, ma significa certificare e santificare un dato. Saranno poi fatti evidentemente ulteriori accertamenti perché le collaborazioni, l'appartenenza, ogni tipo di rapporto vi assicuro è qualcosa di burocraticamente documentato, magari con le opportune classifiche di riservatezza. E penso che in una fase preliminare è assolutamente opportuno poi sentire un parere, sentire una parola e vedere se questo che si dice in un momento successivo sarà qualcosa che avrà una conferma oppure che si scontrerà contro l'evidenza dei fatti e si continuerà l'attività investigativa. Questo per dire quella che è la nostra metodologia investigativa che è stata applicata, che ritengo essere stata effettuata con la massima cura e il massimo scrupolo. È stata anche poi puntualmente relazionata e passo passo ci sono le relazioni su questo tipo di attività. Altra attività che è stata effettuata è stata relativa al reperimento di quanto più materiale possibile relativo in particolar modo a Via Fani e anche a Via Caetani per poterlo assicurare nella disponibilità della Commissione e poi nella disponibilità della Polizia Certifica affinché con le nuove attrezzature e le nuove apparecchiature potesse effettuare degli esami. Io non penso sia proprio, poi in caso c'è il collega della Polizia Scientifica che mi potrà correggere per ripetere le attività fatte perché in realtà non si è trattato di una ripetizione ma è la prima volta che viene fatto con tutto questo materiale a disposizione uno studio della dinamica e delle traiettorie. Questa è la prima volta. In proposito, vi volevo fare presente che abbiamo sentito più volte il perito Benedetti. Il perito Benedetti ci ha proprio detto e ci ha spiegato abbiamo chiesto se avevano fatto accertamenti di questo tipo e lui che è stato protagonista di più perizie delle ultime poi in ordine di tempo ha spiegato noi non abbiamo mai esaminato le autovetture né compiuto sopra luoghi in Via Fani che fossero in qualche modo finalizzati a ricollocare i reperti balistici sul luogo dell'Eccidio e a ricostruire la dinamica dell'agguato. Quindi la finalità di questa attività è stata fare qualche cosa di nuovo. È stato piuttosto complicato perché non abbiamo trovato una omogeneità di conservazione dei reperti. solo per dirvi in una scantinato del di Gardone-Valtrompia del banco di prova di Gardone-Valtrompia ci sono decine e decine di armi delle Brigate Rosse dei vari covi di varie strutture che i periti avendo terminate le perizie difficoltà a poter restituire abbiamo anche trovato una corrispondenza ma spesso non gli rispondono. Sono lì. Sono armi via Giulio Cesare via della Cazza tantissimi tantissimi ma stiamo parlando di decine e decine di armi. Così come tutti i bossoli e gran parte dei proiettili non sono stati rinvenuti con molta semplicità ma fino a poco tempo fa erano rimasti a casa di uno dei periti protagonisti di queste vicende il professor Salza e al suo decesso la famiglia si era preoccupata di darle un altro perito quindi non sono stati trovati facilmente quindi l'attività mirata a recuperare tutto questo materiale e a permettere questa attività che ha caratteri di novità oggettivamente. Bene abbiamo già un po' di iscritti il senatore Corsini poi l'onorevole Lavagno l'onorevole Grassi il senatore Fornaro lei ha fatto riferimento alla FIDREF parliamo nel microfono sì beh innanzitutto la ringrazio dalla sua comunicazione ecco sulla FIDREF è possibile avere qualche ulteriore elemento rispetto alle informazioni adesso io le porrò tre o quattro quesiti se lei è così cortese puoi rispondere alla fine ecco sulla FIDREF è possibile avere qualche altra informazione rispetto diciamo così ai cenni che lei ci ha esposto questa è la prima domanda la seconda le ricostruzioni della polizia scientifica e in modo particolare quelle che riguardano il maresciallo leonardi sembrerebbero essere in contrasto con talune perizie come quella di Ugolini ed anche con alcuni riscontri di natura anatomopatologica quindi volevo capire se eravate in grado di darci se lei è in grado di darci qualche ulteriore informazione in un'audizione l'ultima domanda in un'audizione precedente si è fatto riferimento alle sequenze fotografiche relative all'alfa sud della polizia ecco io vorrei capire meglio le vostre osservazioni così come se fosse possibile avere dei chiarimenti circa le incongruenze dei che risultano in ordine ai tempi di percorrenza esattamente grazie a lei allora per quanto per quanto riguarda la FIDREV è una società di revisione questa società di revisione faceva capo a persone e a studi legali noi come siamo arrivati alla FIDREV noi ci siamo resi conto che gli spostamenti che aveva seguito effettuato la società Poggio delle Rose erano spostamenti coincidenti con quelli della sede della FIDREV questa società si occupava di curare i conti presentare i bilanci di varie società il giro di affari era molto grosso e quindi il rapporto con la immobiliare Poggio delle Rose era un rapporto di servizio questo è stato accertato sia dal carteggio che dalle dichiarazioni per quanto riguarda per quanto riguarda quello che le accennavo della le audizioni che c'erano state e le particolarità della FIDREV adesso sarò essere saprò essere più chiaro perché chiaramente noi facciamo delle verifiche in atti quello che era emerso è che erano stati auditi dei direttori protempore del SISDE perché risulta per chiarire se risultassero rapporti e se ci fossero società di copertura in qualche modo collegate ai servizi e collegate a società che stavano in via grado presso la commissione stragi nella trecesima legislatura il prefetto Stelo era stato audito già direttore del SISDE e aveva riferito che la FIDREV era stata incaricata della consulenza bilanci e fatture del servizio del SISDE a partire dall'ottobre del 1978 per dieci anni in quell'occasione dall'ottobre in quell'occasione l'onorevole Fragalà che aveva seguito e faceva parte della commissione aveva citato una nota SISDE a firma del prefetto Marino altro direttore SISDE che testualmente riportava questo con riferimento ai rapporti con le società gradoli che avevano a che fare con gli immobili via gradoli non sembra verosimile sostenere SICET sempliciter un diretto collegamento del SISDE con gli immobili di via gradoli ma potrebbe apparire di rilievo anzi di un qualche rilievo considerare che fino al 1988 di 78-88 società di consulenza del servizio per la GUS e la GATTEL GUS e GATTEL erano società di copertura del SISDE questo era stato accertato dalle indagini e ci erano stati penso acquisiti anche i decreti ministeriali per cui una società facenti capo al servizio era la FIDREV società questa FIDREV controllava l'immobiliare gradoli e il sindaco supplente di questa gradoli era Bonori tale Bonori questa persona questo Bonori era stato poi l'incarico di commercialista di fiducia del SISDE ed aveva avuto un ruolo anche nella FIDREV queste sono sulla base di queste verifiche abbiamo ritenuto opportuno cercare di avviare indagini più approfondite sulla FIDREV abbiamo segnalato questo subito alla commissione e questi dati devo dire la verità dall'accesso che era stato fatto alle conservatorie si parlava penso di decine e decine di faldone di carteggio perché era un'attività dal 41 ed era vastissima e per questo poi sono state date queste indicazioni ed è stata anche fatta presente la nostra non specificità professionale per questa attività non so se sono stato esaustivo bene allora per quanto riguarda la ricostruzione della polizia scientifica poi eventualmente mi soccorrerà il collega e per quanto riguarda il contrasto lei mi diceva con altre perizie e per quello che riguarda il maresciallo Leonardo noi sia non riteniamo che ci siano elementi di contrasto tranne che con la perizia Ugolini che fa cenno a una ricostruzione degli eventi per quello che riguarda il discorso delle autopsie che evidenziano che il corpo del maresciallo Leonardo ha dei fori sulla parte destra del corpo vi devo dire che in queste perizie ci sono vi faccio vedere anche in tutte queste perizie comunque l'anatomo il medico legale scusi il medico legale fa cenno che per avere una idea certa per farci non basta il solo esame delle ferite come è naturale ma bisogna vedere e avere visione di quelle che sono le traiettorie e di fare insieme un discorso balistico io però volevo sottolineare un particolare che penso possa essere in qualche in qualche misura di utilità prego il collega di correggermi se sbaglio qualche cosa perché non sono diciamo così un perito balistico ma io voglio mostrare solo alcuni pezzi del lavoro di ricostruzione per evidenziarveli e evidenziarvi come alcuni dati non erano nella disponibilità di chi ha fatto la prima attività peritale guardate questa è la macchina su cui viaggiava il presidente Moro questo su cui sto mettendo la freccetta è lo sportello del povero maresciallo Leonardo guardate questi segni adesso si vedono meglio non sono dei buchi ma sono dei rigonfiamenti qui si vede questo B e qui si vede quello C successivo torno indietro poi li potrete vedere meglio in buona sostanza qui il colpo c'è la certezza che è sparato da sinistra perché perché entra nello sportello dalla parte destra entra nella parte interna della portiera e non ha più la forza per uscire è ritenuto non so se è chiaro dalle immagini o necessitano ulteriori spiegazioni qui è più completo perché si può vedere nel dettaglio la parte interna della portiera quindi è un colpo necessariamente proveniente da sinistra e questo colpo non riesce a fuoriuscire il proiettile viene recuperato la stessa cosa ancora più evidente capita per il proiettile della traiettoria con la C entra all'interno ed è questo rigonfiamento per cui quando poi fanno l'esame da dentro la portiera lo tolgono non c'è quindi alcun dubbio che questi proiettili provengano da sinistra questi proiettili sono stati recuperati questi proiettili sono stati confrontati con i proiettili che sono stati rinvenuti sul corpo del maresciallo Leonardo e la perizia Salsa Benedetti afferma che sono stati esplosi dalla stessa arma quindi noi abbiamo i colpi che sicuramente provengono da sinistra e perché sono trattenuti e li troviamo questi stessi colpi trovati all'interno del corpo del povero maresciallo Leonardo che aveva un tramite dalla parte destra che nella prima perizia aveva fatto propendere per questi spari venuti da destra in realtà sono esplosi dalla stessa arma ma questa non è una mi permetto un termine ma insomma non esiste una negligenza della prima perizia perché il il Ugolini quando lui spiega che le sue attività peritali hanno dei limiti per questo io dico che c'è qualcosa di nuovo e il limite per esempio è quello di non aver mai avuto a disposizione i proiettili che erano stati estratti dai cadaveri non averli esaminati non aver effettuato degli esami sulla comparativi sui proiettili per arrivare a questa conclusione io per questo dico che a mio avviso non si può parlare di un contrasto con le altre perizie ma si parla di un'attività in progress con ulteriori acquisizioni faccio presente ad esempio che nella perizia questa perizia Ugolini Ugolini esamina un proiettile nel portabagagli dell'alfetta della scorta e dice che questo proiettile è un proiettile di calibro 9 corto questo è importante perché un proiettile di questo calibro 9 corto andrebbe a certificare la presenza di un'altra arma che non era mai emersa solo successivamente perché verrà fatto un esame alla quinta perizia fatta da Salza e Benedetti si arriverà con un microscopio comparatore a verificare che questo proiettile ritenuto di calibro 9 corto in realtà è stato sparato dallo stesso mitra che ha sparato 49 colpi e questa perizia lo dà in termini di certezza e anzi spiega che molto probabilmente aver inserito un proiettile di calibro 9 corto ha causato l'inceppamento dell'arma questo però è stato possibile solo in un secondo momento perché c'era l'ausilio di ulteriori elementi e di ulteriori particolari lo stesso dopo la perizia Ugolini verrà aggiunta un'altra arma si capirà che un gruppo che era stato attribuito solamente ad un'arma in realtà con ulteriori esami si trattava di due armi diverse quindi io vedo un'attività nuova con possibilità tecniche nuove nella ricostruzione fatta della dinamica da parte di Ugolini che quindi ha tenuto anche conto evidentemente di testimonianze ma non di tutte perché poi della dinamica di due persone che scendevano che sparavano da altre parti è molto limitato il numero delle persone che fanno questo tipo di dichiarazione sostanzialmente l'ingegner Marini però c'è qualche cosa invece che proprio non ci torna e non abbiamo trovato una spiegazione perché nella ricostruzione che fa si dice che uscirono due degli agenti della scorta il povero Iozzino che è stato attinto da 17 colpi e il brigadiere Zizzi che uscirono da verso il marciapiede questo noi non risulta da nessuna parte non solo ma è qualche cosa che è assolutamente smentita da tutte le relazioni che abbiamo preso delle persone intervenute sul posto che hanno anzi soccorso e tentato una forma di rianimazione di Zizzi che poi è stata accompagnata in ospedale fatta sul momento non so se insomma questo è quindi io l'ultima domanda allora si parlava delle sequenze relative alle immagini dell'alfa sud della polizia sulla sulla scena del crimine queste sono queste sono le immagini e di seguito io le manderò sono immagini che vengono ricavate dal dal libro chi ha ammazzato l'agente iozzino dell'agente da damo sostanzialmente noi non riteniamo possibile accertare con sicurezza il momento in cui è scattata questa foto e non riteniamo corretto anzi siamo certi che non è corretto far desumere la tempistica dello scatto della foto dal fatto che iozzino non sia coperto da un lenzuolo nella precedente nella precedente ehm audizione non c'eravamo soffermati su questo particolare per alcune cose che adesso dirò che per noi sono ovvie e devo dire anche un po' per una questione di delicatezza però se è di utilità ci esprimiamo facendo sempre il cenno all'auto l'auto adesso ha tutte quante le ruote sul marciapiede questa foto per noi certamente non è stata scattata nell'immediatezza sostanzialmente quando è arrivata questa autovettura che poi è stata anche indicata come prego l'ordine dei lavori però chiedo solo questo noi avevamo soltanto tra quelli che ha chiesto questa proseguo di audizione che riguardava la ricostruzione che ci è stata presentata questa parte dell'alfa sud non fa parte della ricostruzione era oggetto delle analisi e del report che ci ha presentato la dottoressa finchissona decidiamo soltanto rimaniamo solo sul no perché è stato oggetto anche l'altra volta sì però facciamo in due fasi chiudiamo mi sembra del buon senso chiudiamo solo se il senatore Costini d'accordo parliamo solamente della parte che riguarda gli accertamenti e la dinamica di Afani con l'alfa sud avremo modo di ritornarci in una fase successiva comunque sarò brevissimo per rispondere cortesemente se la stradiamo poi ci ritorniamo con se il senatore Costini è d'accordo rimaniamo allo scenario di via Fani alle cose che abbiamo detto poi l'alfa sud la aggiungiamo se riusciamo in appendice una piccolissima curiosità per un secondo in relazione all'omicidio a Fragalà lei ha presente che l'onorevole Fragalà fu assassinato a Palermo mai nessuno ha ipotizzato all'interno delle indagini che non hanno prodotto alcun risultato che quell'omicidio potesse essere collegato a prese di posizione a dichiarazioni a supposizioni a ipotesi molteplici che l'avvocato onorevole Fragalà aveva sollevato nel corso della sua presenza in commissione stragi guardi non so darle una risposta non so darle perché l'omicidio avvenne a Palermo avvenne a Palermo io non mi stavo occupando di questo all'epoca e quindi è una risposta che purtroppo non so darle bene allora diamo per assodato siamo tutti d'accordo su quello che ha provato no volevo aiutare il senatore Corsini questa ipotesi è stata avanzata nel corso del processo ma è stata scartata perché è stato individuato l'omicida e il movente dell'omicidio che non c'entra niente che non c'entra niente con la commissione Moro allora se diamo per scontato lo dico a tutti i colleghi che dovranno intervenire sull'Alfa Sud faremo poi un approfondimento ulteriore in un altro momento senza quindi siccome l'abbiamo detto che non fa la domanda a Corsini poi la rifaremo per altri Lavagna grazie Presidente grazie per la premessa che ha fatto qui credo ogni membro di questa commissione dovrebbe associarsi perché va fatta salva non solo la buona fede ma il rispetto della professionalità di chi ha lavorato rispetto al lavoro che ci è stato presentato a questa commissione pur nel rispetto dell'opinione di ciascuno come lei ha ben precisato detto questo mi attengo alla metodologia proposta sull'intervento dell'ordine del lavoro del senatore Fornaro e quindi mi prenoto per un secondo giro perché vorrei fare domande riferite agli immobili eccetera eccetera via Fani mi attengo quindi a una domanda molto semplice anzi forse a due rispetto allo scenario via Fani ora mi sembra che sia ricorrente l'ipotesi e la tendenza a dare un ruolo attivo all'hosting morris parcheggiata al posto di spiriticchio tanto per capirci e mi sembra che il ruolo attivo sia più di dargli il ruolo di protezione rispetto a un eventuale sparatore da destra ora da più parti leggo in particolare in una parte ma diciamo da più parti per essere più generici e non sembrare invece inquisitore rispetto a qualcosa o a qualcuno si fa un uso abbastanza spregiudicato di termini che non sono sinonimi ora sul lato dell'hosting morris tra l'hosting morris e il marciapiede è stato ritrovato un reperto ora accettato il fatto che bossole e proiettile non sono sinonimi e cambiano radicalmente la dinamica io chiedo una precisazione che sia evidente a me risulta essere un proiettile non un bossolo ma effettivamente se quello si tratti di un bossolo di un proiettile che cosa sia stato effettivamente rinvenuto e sequestrato e come questo combacia con la ricostruzione da voi fatta e da voi presentata alla commissione l'altra domanda di curiosità che non abbiamo specificato nell'altra nell'altra audizione è se ho ben capito la presenza di un colpo di un foro di un accidente che ha colpito il tetto della 130 dal basso verso l'alto verso la parte centrale del parabrezza superiore al parabrezza ecco vorrei capire effettivamente perché questo non rientrava in nessuna spiegazione oggettivamente razionale e non rientrava in nessun tipo di ricostruzione da voi presentata la scorsa volta questi sono i due quesiti e poi mi riservo Presidente un ulteriore giro grazie allora per quanto riguarda la presenza di bossoli e proiettili per quanto in terra c'è in terra c'è il bossolo vicino alla minimores poi nell'intercapedine dello sportello c'è ma non vostro c'è un proiettile quindi è un proiettile che non so se è uno di quelli trapassanti quelli che è passato sicuramente proveniente da sinistra che ha tinto la macchina parcheggiata sul lato sinistro ed è stato recuperato questo è stato questo proiettile è stato esattamente recuperato penso lo stesso giorno perché quell'auto che era stata attinta da più colpi fu portata nel cortile della questura e fu recuperato cercato di un proiettile poi l'altra cosa che aveva chiesto mi scusi del sì quello forse se mi può se puoi passare hai bisogno su richiesta di fornare abbiamo espunto in questa parte pure l'immobile quindi facciamo finiamo il primo giro su proiettili balistica colpi e poi facciamo il secondo giro su immobili Alfa Sud se ci riusciamo no a tutti l'ho detto grazie l'ho detto a tutti perché Lavagno ha appena detto è rioccupato con una bottiglia vistosa ha appena detto Lavagno che si è censurato di due domande perché voleva chiedere sugli immobili allora accettando quello che ha detto Flanaro adesso dopo Lavagno diamo la parola a Fornare poi diamo la parola a Grassi innanzitutto buonasera e allora ovviamente all'impatto sul parabrezza lei dice questo ok questo è un proiettile che ha colpito il parabrezza e ha terminato la sua corsa all'interno della 130 sul lato opposto è entrato come vedete dal lato guida e ha terminato dal lato opposto la parte interna e fa parte di quella traiettoria che probabilmente noi l'abbiamo probabilmente molto verosimilmente noi l'abbiamo considerato come il primo colpo esploso durante durante l'agguato e se volete recupero la presentazione dell'altra volta così ve lo faccio del bene ok scusate vado un po' veloce ok vediamo proprio la ricostruzione grazie ok sarebbe questa traiettoria qui la AI quindi gli impatti l'avete visti poco fa la traiettoria è questa è riportata sulla scena è esattamente questo colpo qua quindi solo non per interloquire ma solo per comprare nella vostra ipotesi è quella del primo colpo sparato dal primo sparatore che sta nella parte bassa dei gafani è un colpo esploso con l'autovettura ancora in movimento con ogni molto verosimilmente e se vi ricordate di questo movimento lo sparatore senza muoversi continua a esplodere i colpi successivi potrebbe anche essere stato un colpo esploso da questa parte ma la considerazione che abbiamo fatto l'altra volta ci fanno propendere per lo stesso sparatore che esplode tutti i colpi perché si sarebbe trattato in questo caso di un unico colpo sparato da quel punto che non ha colpito nessuno questo è chiaro quello che voglio capire voi escludete pertanto che se un colpo proveniente dall'auto occupata da Moretti tanto per capirci è incompatibile stiamo parlando sparato da qui no l'altra volta avevamo detto che non era incompatibile in assoluto erano delle considerazioni logiche dobbiamo pensare che un colpo solo sia stato esploso da questa posizione che non ha colpito nessuno e tutti gli altri da quest'altra posizione stiamo parlando di colpi esplosi a distanza di frazioni di secondo anche se è colpo singolo è più verosimile più logico pensare che senza muoversi lo stesso sparatore esplode questo primo colpo e immediatamente dopo esplode anche gli altri questo era quello che era stato detto l'altra volta senatore Fornaro ringrazio ma mi associo anch'io in maniera non formale alle parole del presidente e alla fiducia piena nei confronti della polizia di stato e quello che dirò che non ha soltanto forme di domande poi io formalizzerò due domande è un tentativo evidentemente senza competenze balistiche o anatomopatologiche ma lavorando diciamo con logica deduttiva e provando quindi ad incrociare le carte anche a sviluppare un diverso scenario un diverso scenario e una diversa ricostruzione sarà un po' lungo chiedo scusa ai colleghi ma nella prima parte provo anche un po' a mettere insieme le cose per capire se ho capito bene sostanzialmente poi ci consegna quello che assolutamente consegno tutto cerco anche di sintetizzarlo per non essere troppo lungo la ricostruzione del 10 di giugno avrebbe sostanzialmente dimostrato la compatibilità di questi elementi quattro assalitori sparatori di cui due con obiettivo la FIA 130 in cui viaggiava il presidente Moro col caposcorta Leonardo oltre all'ottista Ricci e due l'alfetta con la scorta la guida Rivera con accanto Zizzi e dietro sulla destra Iozzino i primi colpi sarebbero stati sparati con le auto in movimento non vi sarebbe stato alcun tamponamento violento tra FIA 130 e FIA 128 Bianca dei terroristi l'arma che avrebbe sparato la maggioranza dei colpi sarebbe quella del quarto assalitore posto in alto rispetto all'incrocio tutti i colpi salvo alcune eccezioni sarebbero stati sparati da sinistra verso destra nella prima fase nessun assalitore si sarebbe collocato sul lato destro mentre è possibile che a seguito della reazione di Iozzino che riesce a sparare due colpi uno barra due assalitori abbiano aggirato l'alfetta portandosi quindi sulla destra per rispondere al fuoco e uccidere l'unico uomo della scorta che riuscì a reagire io fotografo sostanzialmente questo come ricostruzione però non è solamente una cosa che mi posso permettere che per noi il tamponamento c'è stato io ho parlato infatti di tamponamento violento ah perfetto poi arrivo però non c'è stato il tamponamento violento mi perdoni mi perdoni no è proprio veramente è una sottilezza addirittura noi abbiamo concluso la ricostruzione dicendo che basandoci soltanto sulle traiettorie che siamo riusciti a ricostruire noi avremmo potuto immaginare la presenza di soltanto tre elementi che sparavano essendo presenti bossoli appartenenti a più armi chiaramente ma se dovessimo basarci soltanto sulle traiettorie se vi ricordate ma ve la faccio rivedere se mi consente se ne vai sulle tavole nelle tavole voi ne mettete quattro certo quindi ho ripetuto il quattro perché comunque ha individuato due poi andando avanti però mi sembra che in tutte le tavole voi ne mettete quattro sulla scena sì e ne mettiamo quattro perché sono presenti bossoli esplosi a più armi ma in realtà le armi sono di più di quattro perché sono poi ci arrivo no veramente soltanto una cosa il motivo è che un'arma ha esploso soltanto tre colpi e non ha lasciato impatti evidenti quindi se noi ci fossimo dovuti basare esclusivamente su quelle informazioni avreste potuto mettere tre però diciamo questa è la fotografia di quello che avete fatto la ricostruzione del dipartimento dunque collimerebbe in buona sostanza con quanto contenuto nel cosiddetto memoriale Morucci da cui emergeva in estrema sintesi che il gruppo di fuoco era composto da quattro elementi dal basso verso l'alto Morucci che usa un FNA43 Fiora un M12 Gallinari un TZ45 più una pistola Smith & Wesson e Bonisoli un FNA43 più una pistola Beretta 51 calibro 7,65 Morucci e Fiora hanno il compito di neutralizzare la scorta presente sulla FIA 130 non colpendo Moro mentre Gallinari e Bonisoli devono rendere inoffensiva la scorta dell'alfetta Moretti rimane alla guida della FIA 128 Bianca e non partecipa all'azione di fuoco Seghetti alla guida della FIA 132 con cui verrà portato via l'ostaggio Balzarani è il cancelletto inferiore lo Iacono dotato di fucile 30 MI e Casimiri sono il cancelletto superiore ad eccezione dei quattro del gruppo di fuoco nessun altro spara un colpo contro la FIA 130 e l'alfetta questa è la fotografia del memoriale Morucci la ricostruzione del dipartimento quindi sostanzialmente è compatibile con la dinamica raccontata da Morucci e altri con l'eccezione del tamponamento della FIA 128 Bianca da parte della FIA 130 che non vi sarebbe stato mentre confermerebbe quanto ha sempre sostenuto Moretti a supporto della sua versione che lo vede non partecipante attivo della sparatoria secondo la ricostruzione elaborata dal dipartimento infatti la FIA 130 avrebbe sobbalzato a più riprese per andare ad appoggiarsi alla FIA 128 col fanare anteriore sinistro leggermente rientrato questo non confermerebbe però né la versione Morucci del tamponamento come momento di inizio dell'attacco armato né quella di Moretti che rimane alla guida per rendere impossibili i tentativi dell'autista Ricci di uscire dal blocco costituito dalla 128 Bianca davanti e l'alfetta che poi tamponerà a sua volta la FIA 130 nei ricordi di Morucci Gallinari Fiore e Bonisoli poi tutti e quattro i miti usati all'inizio si inceppano quello di Morucci dopo sette colpi quello di Fiore subito anche se sono stati ritrovati tre bossoli quello di Gallinari dopo cinque colpi e quello di Bonisoli dopo pochi colpi solo Morucci riuscirà a rimettere nuovamente in funzione il mitra e a sparare interamente nella migliore delle ipotesi il secondo caricatore 30 colpi Gallinari e Bonisoli invece passano immediatamente ad usare le pistole in loro dotazione per parte sua Fiore sostiene di non aver sparato nessun colpo anche se viene ritrovato un proiettile dell'M12 in definitiva la ricostruzione del dipartimento conferma la tesi brigatista che a sparare furono solamente in quattro tutti posizionati inizialmente sul lato sinistro di Viafani e che tutti gli uomini della scorta furono dunque colpiti da sinistra verso destra salvo ricordato a giramento sulla destra dell'alfetta nella fase finale dell'agguato questo è un giudizio la ricostruzione del dipartimento però poi possiamo intenderci sui termini io lo definisco in contraddizione nei termini in cui ha detto lei ci può anche stare con le perizie medico-legali e balistiche oltre alle sentenze sul rapimento e l'uccisione di Moro secondo cui in particolare Leonardo sarebbe stato certamente colpito da proiettili sparati da destra verso sinistra circostanza che viene spiegata dal dipartimento con la posizione assunta da Leonardo e con l'inizio dell'agguato con le auto in movimento in particolare le tavole 17 e 18 dell'allegato della relazione tecnica appare quindi utile a provare a verificare ed è quello che proverò a fare questa sera un'altra dinamica che contempli la presenza in via Fani di un numero più elevato di assalitori rispetto ai 4 del memoriale Morucci e i 4 sostanzialmente della recente ricostruzione le auto le due auto i 130 all'alfetta non sarebbero state colpite in movimento come innovando sostiene la ricostruzione del dipartimento questo particolare non è mai emerso né dei racconti dei brigatisti ed è in contrasto con diverse testimonianze che riferiscono colpi singoli seguiti da grafiche di mitra il numero elevato di bossoli ritrovato vicino al lato sinistro di via Fani tavola 11 se può andare dottore cortesemente dell'allegato fotografico che è uno dei problemi a mio giudizio non risolto prendere la relazione o la presentazione dell'allegato fotografico quelle le slide in buona sostanza quelle che poi ci avete dato anche in forma cartacea mi ferma lei quando la trovo è la 11 non le ho numerate eccola il B esatto il B 27 bossoli e il K 9 bossoli questa potrebbe essere compatibile non già con le auto in movimento che è una delle cose che voi avete innovato e quindi con l'inizio degli spari in posizione più alta ma con la presenza di un quinto componente del gruppo di fuoco dotato anch'esso di un mitra quello peraltro mai ritrovato secondo la perizia Baima Bollone dell'80 un Beretta M12 o similare sarebbe questa infatti l'arma che avrebbe sparato il maggior numero di colpi in assoluta coerenza con l'inceppamento degli altri 4 mitra l'unico che prendendo per buona il memoriale Morucci potrebbe aver sparato 37 colpi sarebbe infatti l'FNA 43 di Morucci stesso quest'ultimo però è collocato sulla scena in una posizione opposta a quella al luogo di ritrovamento del maggior numero di bossoli esattamente dalla parte opposta cioè il primo vicino alla bianca in definitiva nella ricostruzione del dipartimento non è chiarito e questo poi sarà una domanda specifica che farò alla fine quale arma produce i bossoli 27 più 9 indicati nella tavola 11 dal momento che l'arma 4 Bonisoli è sì un FNA 43 ma si inceppa dopo pochi colpi questi bossoli invece potrebbero essere attribuiti ad un quinto assalitore produttato di un'arma magari più moderna ed efficiente che non si sarebbe inceppata o più semplicemente a un altro FNA 43 infatti per naturalizzare i tre componenti dell'alfetta non è richiesta particolare precisione e destrezza non dovendo a differenza della FIA 130 salvaguardare la vita dell'ostaggio ma molto più semplicemente come voi avete anche sostenuto un elevato volume di fuoco il fatto accertato che Iozzino riesca a scendere dall'auto e rispondere al fuoco e che Zizi non sia ancora morto all'arrivo della prima volante della polizia sono entrambi compatibili con l'inceppamento dichiarato delle armi di Gallinari e Bonisoli si rileva infine che 7 di 17 proiettili di cui 7 ritenuti che raggiungono Iozzino furono esplosi con l'FNA 43 mai ritrovato fatto questo assolutamente spiegabile con la presenza di un quinto assalitore armato posto nella posizione più alta del gruppo di fuoco che dopo l'uscita del veicolo di Iozzino avrebbe aggirato per primo sulla destra all'alfetta per neutralizzare l'unico componente della scorta che fu in grado di rispondere al fuoco nel memoriale Morucci infatti l'arma di Bonisoli il più alto del gruppo di fuoco si inceppa dopo pochi colpi e come già ricordato il suddetto passa a utilizzare la pistola Beretta 51 nella ricostruzione del dipartimento l'attacco alle armi in movimento è compiuto simultaneamente dai 4 sparatori fatto salvo l'immediato inceppamento dell'M12 in dotazione a fiori per cui Bonisoli spara raffiche i primi colpi del suo NFA 43 sul colpo dell'Iozzino vengono trovati 7 proiettili ritenuti riconducibili nell'FNA 43 e sparati certamente da destra verso sinistra delle due luna o l'FNA non si era inceppata e quindi Bonisoli nella seconda fase aggira l'alfetta e colpisce Iozzino ma questo contrasta con i bossoli 765 ritrovati sia sull'alfetta sia sulla 130 oppure a colpire Iozzino e un altro sparatore il numero 5 posto ancor più in alto di Bonisoli armato con un altro FNA 43 che per primo si accorge che Iozzino era uscito e lo colpisce si deve tenere presente che nella perizia balistica Benedetti risalza riguardante le due pistola mitra FNA 43 di cui una sola sequestrata cito congruente appare la circostanza che la stessa arma per la sua vetustà possa aver avuto la rigatura di canna completamente corrosa e non più in condizione di lasciare sulle pallottoli in essa sparati impronti di rigatura distinguibili dall'altra seguendo questa impostazione non è quindi possibile escludere la presenza di un terzo FNA 43 con analgue caratteristiche degli altri due in dotazione all'assalitore numero 5 mentre 17 proiettili sono attribuibili con certezza all'FNA 43 di Morucci gli altri 49 colpi esposi potrebbero essere suddivisi tra l'FNA 43 di Bonisoli che si inceppa e un terzo FNA 43 o arma equipollente dello sparatore numero 5 ipotesi che spiegherebbe anche l'elevato numero di bossoli 27 e 9 B e K non ci vedo più ritrovati vicino alla mine minor sul lato sinistro della carreggiata di Viafani adesso passa all'altra questione la tesi che la presenza di assalitore sul lato destro di Viafani sia incompatibile come è stato detto a causa del rischio del fuoco incrociato non trova inoltre adeguato supporto nelle perizie medico-legali e balistiche con particolare riferimento alla neutralizzazione tra virgolette di Leonardo la relazione medico-legale è l'unica che non cambia perché le perizie sono cambiate ma quella è l'unica autopsia che è stata fatta e qua mi scuso devo dire se c'è qualche parente di Leonardo in ascolto perché aver visto quelle fotografie comunque è stata una cosa anche toccante in qualche modo una violazione della privacy devo dire viene citata lo segnalo anche dalla richiesta di archivazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma depositata l'11 novembre 2014 quindi quella più recente quella relazione evidenziò senza ombre di dubbio che il prevalente direzione dei tramiti aveva aperte virgolette quindi questa è una citazione in ogni caso qua c'è tutti i riferimenti dove è stata presa la citazione un orientamento nettamente da destra verso sinistra con modesta diversità di traiettorie dove si accetto in quella che dalla regione parietale destra aveva raggiunto la regione nucale sinistra mentre ben poco poteva essere detto per quanto riguardava i due tramiti trasforsi nell'arco superiore destro in quanti molteplici sono le posizioni che un'arte superiore può assumere nello spazio nella richiesta di archivazione si precisa altresì che quando nella relazione si parlava di due proiettili che avevano assunto un aperte virgolette tramite pressoché parallelo anche se con diversi gradi di obliquità rispetto all'asse per il livello del corpo chiuse virgolette i periti intendevano riferirsi aperte virgolette alla ferita penetrante in regione temporale destra e a quella penetrante in cavità toracica attraverso la spalla destra là dove si considera che il Leonardo aperte virgolette era seduto a destra dal 130 al posto del passeggero sui sedili anteriori e che i colpi avevano seguito una traiettoria intrasomatica pressoché pervenicolare al corpo furono esplosi da distanza più ravvicinata nella relazione medico-legale è sottolineato come aperte virgolette un'unica considerazione può essere svolta proprio sulla base della difformità dell'orientamento dei tramiti può essere ritenuto che la prima serie di colpi abbia attinto il soggetto da destra verso sinistra mentre era seduto al proprio posto quando altri colpi quelli pressoché parallele all'asse percolinale del corpo debbono essere stati inferti in tempuscolo successivo verosimilmente da distanza ravvicinata quanto a seguito delle prime lesioni il corpo era ormai accasciato sul sedile i periti concludono la loro analisi autoptica evidenziando come aperte virgolette in particolare sono state identificate le traiettorie di nove proiettili quali hanno percorso differenti direzioni intrasomati sei con netto orientamento da destra verso sinistra uno al capo con un'obliquità più accentuata da destra verso sinistra due orientate lungo l'asse perpendicolare del corpo la ricostruzione della posizione di Leonardi riportata a pagina 57 della relazione del dipartimento dice egli offriva virgolettato il fianco destro verso la direzione di queste traiettorie perché doveva aver assunto una posizione di seduta diversa da quella normale ovvero col busto ruotato sul lato sinistro chiuse virgolette non trova inoltre questa ricostruzione immediato riscontro con la circostanza accertata dal rilievo della polizia scientifica del 16 marzo secondo cui apro le virgolette il cadavere del maresciallo dei carabinieri Leonardo e Oreste si rinviene rannicchiato sul lato destro nella parte anteriore dell'abitacolo esso tiepido integro rilassato in odore vestito giace sul fianco sinistro con la testa rivolta verso lo schienale del sedile anteriore destro i piedi in direzione del pianale la testa rotata e flessa sinistra appoggia con la grigione temporo parietale sinistra sullo schienale del sedile anteriore e qua ho ritrovato la foto che lascio poi non bisogna dimenticare infatti che la perizia medico-legale ha espresso senza ombra di dubbio apro virgolette un giudizio di istantaneità del decesso di Leonardo detto in altri termini vuol dire che quel tipo di ricostruzione cioè la posizione è e qua chiedo una dimostrazione quanto sia compatibile come poi è stato ritrovato al corpo del povero Leonardo perché da un punto di vista fisico se vale la perizia otoptica lui è stato colpito immaginando anche a questo punto di essere colpito da sinistra quindi secondo la vostra ricostruzione a quel punto la testa sarebbe andata forzo verso il grembo dell'autista cioè da un punto di vista fisico la tendenza è questa ce lo ritroviamo invece tutto rannicchiato sulla destra anche per la seconda perizia balistica redatta nell'ottanta da mai bambollone nebbia ugolini salse benedetti leonardi viene colpito solo da destra e anche l'autista dell'alfetta rivera è attinto da alcuni colpi da destra nella notizia di generica della perizia si sottolinea sostanzialmente questo tipo di impostazione poi cerco di andare veloce perché sto rubando anche troppo tempo la perizia si fonda su una dinamica dell'agguato in cui dall'autofia 128 ne escono due persone tra cui una donna pare che si avvicinano ognuna della sua parte al guidatore e al passeggero anteriore immediatamente aprono il fuoco attraverso i vetri con precisione topografica perfetta in modo da risparmiare di colpire con proiettili e frammenti l'onorevole che era di dietro per la perizia redatta da Benedetti e Salza nel 93 Leonardo Oreste fu attinto da nove colpi di cui quattro pallottole furono esplose con la pistola mitra FNA 43 sequestrata matricola 5482 le evidenze delle sopraccitate perizie paiono essere perciò compatibili con una dinamica mi sono permesso di dire alternativa alla vostra ricostruzione così sintetizzabile la FIA 130 è costretta brutalmente a frenare a causa del movimento della FIA 128 Bianca da cui escono la tesi riportata nella prima Berizia O'Golini e assunta dalle sentenze di condanna nei processi moro quindi è verità giudiziaria due assalitori Moretti più un sesto componente che si portano rispettivamente vicino al finestrino sinistro Moretti e destro sesto assalitore lo rompono col calcio della pistola e sparano poi a brevissima distanza a Ricci Moretti e a Leonardo il sesto chi uccide Leonardo dimostra inoltre una capacità di tiro notevole l'ipotesi della ricostruzione di partimento di un attacco iniziale a mitra spianati Morucci e nel progetto iniziale Fiore da sinistra verso destra inoltre poco compatibile con l'obiettivo di non colpire Moro e soprattutto con la ricordata perizia medico-legale del 79 è possibile invece anche una seconda variante della dinamica che vede presente un assalitore da destra compatibile sia col memoriale Morucci sia con la versione di Moretti in cui quest'ultimo rimane alla guida della FIA 128 bianca e non spara neppure un colpo fermo restando la brusca frenata della FIA 130 dal lato sinistro agiscono Morucci che spara agli iniziali sette colpi con il mitra contro Ricci con ottima probabilità ad autoferma di non colpire Moro seduta sul sedile posteriore mentre Gallinari e Bonisoli e come vedremo anche un quinto si concentrano con il mitra sull'alfetta sul lato destro invece entra in azione un sesto componente o nascosto dietro la Minio oppure molto più probabilmente arrivato come passeggero della FIA 128 che ha il compito di neutralizzare Caposcorta Leonardi l'uomo militarmente più addestrato e anche più pericoloso questa variante contrasta solo parzialmente con l'elementare misura di sicurezza di non esporsi al fuoco incrociato che avete giustamente sottolineato da parte del sesto salitore perché il suddetto potrebbe essersi collocato in prossimità dell'angolo destro della FIA 130 e quindi ragionevolmente in posizione non raggiungibile dai proiettili sparati da sinistra verso destra oppure il sesto salitore prima rompe il finestrino e poi in tutta sicurezza rispetto al rischio di colpire l'ostaggio spara su Leonardi soltanto dopo Morucci spara i sette colpi con il mitra questo sarebbe compatibile con i testimoni che dicono aver sentito prima colpi singoli e poi mitra sono quasi finito la presenza di un assalitore sul lato destro che interviene per naturalizzare Leonardi inoltre è maggiormente coerente con un'altra questione la mancata reazione di quest'ultimo e anche della posizione in cui è ritrovato parzialmente rivolta all'indietro quasi a fare da scudo umano a Moro rispetto alla costruzione del dipartimento con colpi che arrivano unicamente da sinistra verso destra e quindi non diretti potenzialmente verso Moro come già osservato Morucci spara soltanto sette colpi fiori come detto nessuno per cui l'inceppamento del mitra avrebbe dato tempo a una reazione di Ricci e Leonardi anche se feriti reazione che invece è documentato non vi è stata da parte di Leonardi mentre dubbia quella di Ricci tentativo di spostarla a 130 nel tempo che intercorre tra l'inceppamento del mitra di Morucci e la seconda scarica dopo aver messo un caricatore nuovo oppure sobbalzi nella macchina come voi avete definito in definitiva è compatibile con i rilievi con le perizie una dinamica dell'agguato con la presenza di almeno sei assalitori la 128 bianca con la guida Moretti si blocca improvvisamente all'incrocio di via Stresa provocando la busca frenata da 130 e il tamponamento di quest'ultima parte dell'alfetta sul lato destro da destra entra in scena un sesto componente che rompe il finestrino e spara almeno due colpi di precisione contro Leonardi dal lato sinistro davanti al barex Olivetti balzano sulla sede stradale cinque assalitori dall'alto verso il basso Morucci Fiore, Gallinari Bonisola e un quinto uomo i primi due si posizionano per colpire l'autista del 130 e gli altri tre l'alfetta le identità del quinto e sesto sparatore non sono ovviamente ricostruibili attraverso i rilievi e le perizie grazie alla ricostruzione del dipartimento e questo mi sembra un dato assodato invece può essere archiviata definitivamente la tesi della presenza di un super killer che sparando oltre la metà dei colpi avrebbe compiuto la maggior parte del lavoro stando invece all'ipotesi di un gruppo di fuoco composto da sei selitore anziché quattro prende corpo la presenza di una persona esperta di armi col compito fondamentale per la riuscita dell'azione terroristica di uccidere Leonardi l'uomo più preparato e potenzialmente più pericoloso per i brigatisti resta affine sullo sfondo la presenza della moto onda confermata dai testi marini intravado moschini e barbaro su cui potrebbe essere salito dopo l'attacco l'assalitore numero 5 inoltre siccome appare coerente e credibile il quinto uomo non è un super killer ho finito potrebbe essere un uomo dell'organizzazione brigatista anche se diverse testimonianze segnalano la presenza di una persona con passamontagna e quindi vestito differentemente degli altri componenti del gruppo di fuoco sul profilo invece dell'assalitore numero 6 posizionato sulla destra e fuggito sulla 132 come dirò dopo con capacità da killer professionista potrebbero essere da esplorare due antiche suggestioni la presenza di un esponente tra virgolette prestato dalla mafia calabrese vedi la telefonata intercettata da Benito Cazzora se non è affreato in cui gli dice che da giù gli avevano fatto sapere che in una fotografia scattata dopo poco dopo l'agguato compariva un personaggio noto a loro o la presenza di un terrorista tedesco della RAF con riferimento all'analogia con l'agguato al presidente dell'industriale tedesco Schaller e alla testimone che riferisce ad aver sentito distintamente parole in lingua tedesca inoltre a sostegno della presenza del gruppo di fuoco dell'assalitore 6 vi è indirettamente l'assai precisa e puntuale testimonianza dell'autista Antonio Bottazzo che si butta all'inseguimento della FIA 132 con a bordo i brigatisti e l'ostaggio e qua cito la sua e vi prego di fare attenzione su questo punto ho visto che nel sedile posteriore della stessa vi era un uomo tra altri due nel sedile posteriore che si dimenava ho notato pure che uno di questi poggiava il viso della persona che si dimenava a qualcosa di bianco aggiungi che nei sedili anteriori della città a tutta vettura 133 vi erano altre due persone e ancora per quanto riguarda gli occupanti della FIA 132 il numero di 4 oltre alla persona che come detto era tenuta prigioniera posso dirvi quanto segue primo l'autista età apparente 20-25 corporatura normale viso leggermente tondo colorito chiaro altezza circa 1,70 mi regolo da come l'ho visto seduto calzavo un copricapo di panno con visiera di colore blu direi di tipo coloniale portava guanti a maglia tipo automobilista con pelle traforata nella parte superiore di colore chiaro ricordo che il viso non aveva alcuna traccia di barba 2 la persona che sedeva a fianco dell'autista età giovanile forse anni 25-26 con baffi accentuati fino agli angoli della bocca calzavo un cappello simile a quello descritto dello stesso colore e forme indossavo un giubbotto o un cappotto di colore blu il terzo quello che sedeva sul lato sinistro del sedile posteriore e il quarto pure seduto sullo stesso sedile dal lato destro non sono in grado di descriverli perché come già detto sopra entrambi erano piegati sulla persona che teneva prigioniero al loro centro tenendogli sul viso qualcosa di bianco per cui mi davano uno la schiena e l'altro il fianco posso solo dire che anche questi ultimi due indossavano abbigliamento di colore blu in sintesi secondo Bottazzo gli occupanti della 132 erano 5 2 davanti e 3 di dietro compreso quello che gli appariva come uno stagio di un rapimento mentre nella versione brigatista sulla 132 salirono in 4 Seghetti alla guida Moretti davanti Moro e il solo fiore di dietro vi è invece piena coincidenza sul numero di occupanti della 128 blu 3 per Bottazzo 2 davanti e 1 dietro e altre tanti per i brigatisti Morucci alla guida Balzarani e Bonisoli tra l'altro anche da un punto di vista di sicurezza se tu hai uno stagio non gli lasci libero una portiera lo chiudi in mezzo a 2 e quindi sostanzialmente al racconto dei 4 diciamo questo non era il compito vostro diciamo nella versione in questo caso Morucci manca ne manca 1 chi è questo qua che sale sul 132 questo rafforza questa è la mia valutazione la possibile presenza di questo di questo sesto un'ultima osservazione milita a favore di un maggior numero di sparatori progettare un'azione armata con 4 soli tiratori contro 2 auto e 5 agenti appare infatti contrario a un principio minimo di ragionevolezza e di precauzione per rapire sossi vedono complessivamente utilizzati 14 persone chiudo con le due domande specifiche in cui non chiedo risposta diciamo immediata e può essere fatta anche successivamente la prima in parte già descritta dal documento che poi lascio dal momento che la perizia legale medico legale aveva espresso senza ombro di dubbio un giudizio di istantinità del decesso di Leonardi si chiede come sia compatibile la ricostruzione della posizione di Leonardi riportata a pagina 57 della relazione che è quella che ho descritto prima e non rileggo con la circostanza accertata dal rilievo della polizia scientifica del 16 marzo secondo il cadavere del maresciale Leonardi viene rinviato rannicchiato sul lato destro e alleggo la fotografia in cui è stato ritrovato il maresciale la seconda è a quale arma o a quale armi sarebbero riconducibili i bossoli del gruppo B numero 27 e gruppo Z numero 9 chiedo scusa della lunghezza grazie al senato De Fornaro che se ci consegna tutto così lo alleghiamo e hanno modo di vederlo altri gli altri membri della commissione io adesso darei la parola all'onorevole Grassi così poi per una risposta unica anche l'onorevole Grassi ci consegnerà lo scritto o no? sì dopo no no era solo prevenire presidente con lei è meglio che curare dopo glielo dico io non ho ansia di sapere non c'è dubbio quello che ha scritto quindi no no perché mi avrebbe potuto chiedere il testo qualche due precisazioni anzitutto la relazione che presento stasera è a firma congiunta mia dell'onorevole Marco Carra e dell'onorevole Caterina Pess poi ricordo a me che noi abbiamo fatto la commissione di inchiesta perché il Parlamento ha esplicitato la necessità di indagare sulla rapimento di Moro e sull'ecidio di Viafani e poi sulla morte di Moro perché la verità manca io ho fatto insieme con gli amici Carra e Pess un lavoro articolato e congiunto che mette insieme le due relazioni perché c'erano dei pezzi di una che erano riprese anche dall'altra relazione il nostro è un contributo come il vostro qui non si tratta di affermare che una cosa è sbagliata e l'altra è esatta si tratta di lavorare tutti insieme per raggiungere una verità che sinora non abbiamo ovviamente le diversità di vedute vanno orientate sempre in un clima di collaborazione e di reciproco rispetto che per quanto ci riguarda non è mai venuto meno non è mai messo in dubbio chi pratica altre strade non sta sul nostro percorso io parto dall'Austin Morris appaiono non risolutive le considerazioni in merito alla presenza di quest'automobile l'Austin Morris è stata parcheggiata al posto solitamente occupato dal furgone di spiriticchio cui la notte prima le brigate rosse hanno tagliato le gomme secondo la perizia dell'epoca due persone ubicate proprio nei pressi dell'Austin Morris dichiarazione digos 10 e 15 del 16 marzo 78 sparano su Leonardo e Rivera non si evince dalla relazione se sia stato effettuato lo sbossolamento si ricorda anche che lo sbossolamento da movimento è tracciabile lo dico ai colleghi perché loro sanno benissimo di che parlo lo sbossolamento è quella tecnica che riproduce a distanza di anni con la stessa arma e con gli stessi colpi analoghi colpi la posizione di uscita del colpo e quindi che cosa significa che il bossolo si va a posizionare esattamente dove si era andato a posizionare anni prima dallo stesso posto dalla stessa pistola allo stesso bossolo e poi facendo la rosata si può ottenere la media dei diversi colpi sparati dalla stessa arma nel punto in cui si vanno a posizionare questo è possibile farlo per precisione l'addizione dell'auto della quale parliamo è Austin Morris e non Mini Cooper il titolare dell'auto Patrizio Bonanni inizialmente non ricorda l'intestatario dell'auto stessa e sostiene che può appartenere la società appoggio delle rose crediamo sia versione sospetta considerato che l'assicurazione dell'auto invece è intestata proprio a Bonanni questo fatto dalla documentazione in nostro possesso pare non sia stato fatto rilevare occorre una valutazione del fatto che Bonanni come lui stesso dichiara non è mai stato ascoltato precedentemente tranne in occasione della consegna dell'auto stesso ovviamente dalla Digos a noi sembra che questa sia una procedura fortemente omissiva considerato che l'auto per il posizionamento di ubicazione è centrale nella scena del rapimento va ricordato anche che la stessa auto sempre dalla Digos fu riconsegnata una settimana dopo il che nella dinamica complessiva del caso Moro appare per lo meno intempestivo la richiesta a Bonanni peraltro l'ha detto il dottore prima giustamente la richiesta a Bonanni di appartenere ai servizi segreti appare preonastica lei ha spiegato perché mi convince e ha ragione però io voglio ricordare che tranne per gli agenti ufficiali non esistono elenchi di collaboratori esterni dei servizi segreti aggiungendomi anche qui l'esplicitazione odierna omissiva la volta scorsa forse perché non c'era la documentazione precisiamo che la società Fidrev è azionista di maggioranza della immobiliare Gradoli svolge assistenza tecnica attraverso le società del SISDE Gus e Gattel e ricordiamo la dichiarazione del 6 ottobre 1993 del responsabile ufficio amministrazione e logistica del SISDE tale Pasquale De Rosa fatta alla commissione amministrativa del SISDE incaricata di fare chiarezza sui fondi neri del SISDE la dichiarazione è questa la Fidrev faceva un lavoro preziosissimo perché era tutto finto le automobili venivano comprate sotto il nome di società di copertura appare dunque superficiale e raffrettata la conclusione che le società dei servizi siano estranei ai fatti la società Poggio delle Rose è stata costituita con atto del notaio Vittorino Squillace già funzionario del Ministero degli Interni poi notaio di fiducia dei servizi segreti è necessario valutare il motivo postumo ovviamente non è una cosa che dipende dalla relazione o da voi per la quale il sostituto procuratore inferisi che il 9 maggio dispose le fotografie tridimensionali di tutte le auto di via Caetani nulla fece per le auto di via Fani analogamente dalla relazione non si evince se la balistica di via Fani e questa ovviamente è una domanda è stata comparata con quella di via Caetani la relazione sostiene che presso la Camera di Commercio di Roma è stato verificato che la Chiria la Chiria ma le do copia dopo integralmente la Chiria Costruzioni Edilizie aveva tra i soci la signora Leda Marchesi madre di Patrizio Bonanni e moglie di Lanfranco da una nostra ricerca e non siamo svincolati dagli errori risulta che la signora Leda Marchesi sia socia della Chiria costituita il 29 novembre 1965 ed iscritta nel registro ditte con il numero RM 29 23 26 la signora risulta invece socia anche di altre società dal 2010 nell'archivio digitalizzato esiste una signora Leda Marchesi della quale non è riportato il codice fiscale ne consegue che risultano due Leda Marchesi una con codice fiscale e l'altra senza la Leda Marchesi senza codice fiscale risulta coinvolta solo nella società residenziale sole e mare Patrizio Bonanni dichiara che in quel periodo cioè il periodo del Casomoro aveva la disponibilità di un appartamento in via Mariofani 109 senza affacci suddetta via ove si recava assaltuariamente parole sue non ricorda stranamente se avesse un contratto con l'Empaf o se l'appartamento gli fosse ceduto da un amico su una penna uno può dimenticare chi gliel'ha regalata ma un appartamento è vero che è successo vicino a Colosseo pochi anni fa però voglio dire sono amnesie che si ripetono la Empaf acquista dalla Chiria il palazzo di Viafani 109 111 e 113 e lo fa con atto notarile del 4 aprile 1967 il palazzo è costruito da Bonanni venduto il palazzo la Chiria viene sciolta ovviamente questa è tutta materia che noi offriamo a integrazione di quello che abbiamo visto al punto 29.0 si parla di reperti non viene specificato di quali reperti si tratta o perlomeno non è chiaro a noi dalla relazione si parla genericamente di reperti il punto 56.1 Bruno Barbaro la relazione è troppo vaga sulla persona 29.0 cioè Furnara ha detto pagina 11 29.0 sono i numeri delle relazioni quindi è facilmente comparabile le nostre osservazioni sono facilmente comparabili ma la relazione quale le due della volta scorsa perché noi abbiamo fatto un discorso ad incrocio entrambe le relazioni ho detto in premessa che c'è una parte di una relazione che si riproduce nell'aula punto 29.0 di quale delle due è? stiamo parlando di quella della dottoressa Tintisone quindi è quella della dottoressa Tintisone punto 29 per rintracciarlo dopo le do copia i numeri sono diversi non c'è problema 56.1 Bruno Barbaro secondo noi Bruno Barbaro è testimone centrale viene riferito che Bruno Barbaro nella sua testimonianza del 16 aprile 94 resa come persona presente all'ecidio di via Fani seppur a pochi metri di distanza in quanto è su via Stresa non ricorda se fosse presente una moto durante il rapimento Moro nella registrazione dell'intervista di Bruno Barbaro data al giornalista David Sassoli disponibile su Youtube Barbaro dichiara senza dubbi la presenza della moto la relazione evidenzia a pagina 12 la contraddizione ma non approfondisce l'ambiguità della dichiarazione dello stesso Barbaro Barbaro dichiara di aver coperto con un giornale il volto del poliziotto Iozzino ucciso e riverso per strada di aver sentito respirare il poliziotto Zizi di aver visto sopraggiungere l'ingegnere Alessandro Marini poi conclude aggiungendo di essere stato allontanato da un giovane sceso con una paletta in mano da un Alfa Romeo Giulietta di colore bianco sopraggiunta a forte velocità da persona di bassa statura con soprabbito chiaro con in mano una paletta della polizia è necessario approfondire chi è la persona individuata da Barbaro e a quale Alfa Romeo Giulietta di colore bianco si riferisca le dichiarazioni del Barbaro di non avere rapporti con il cognato il colonnello Bruno Pastori Stocchi non è suffragata da alcuna testimonianza o prova documentale il cognato dice non abbiamo rapporti ma non c'è nessuna prova che non li avessero certamente a noi fa fede la testimonianza però non c'è la prova Barbaro smentisce il suo geometra Giuliano Proto circa le dichiarazioni fatte dal regista Giuseppe Ferraro e relative all'attività sospette della società Impresandex non è dato però dalla relazione sapere chi menta perché la relazione non produce alcuna considerazione a proposito quindi può mentire il Proto o può mentire il Barbaro la differenza è sostanziale la relazione sostiene che gli accertamenti effettuati dal servizio centrale antiterrorismo della polizia in ordine a Barbaro e alle sue società non hanno evidenziato alcun rapporto con i servizi di sicurezza questa dichiarazione non è convincente visto che Barbaro non è dipendente dei servizi stessi e quindi non può stare in nessun elenco 54.1 Maria Iannacone e Tullio Moscardi la signora Maria Iannacone coniugata con Tullio Moscardi proprietario della Mini Minor Roma T32-330 parcheggiata dinanzi al Bar Olivetti sul quale omettiamo qualsiasi considerazione in questa fase dichiara che abitavano sopra il Bar Olivetti di Via Fani ma anche qui strana amnesia non ricorda quali amici del marito avessero prestato l'appartamento nel quale vivevano circostanza molto strana quella di non sapere il proprietario dell'abitazione nella quale si vive la relazione pur evidenziando il punto omette considerazioni critiche Tullio Moscardi il 23 novembre 1979 dichiara al giudice Francesca Amato mi riporto integralmente a quanto dichiarato alla polizia giudiziaria dopo che la signoria vostra mi ha dato lettura del relativo verbale ma preciso che erroneamente è stato scritto civico 106 io invece volevo riferirmi al numero 109 dove all'epoca era sita la mia abitazione come domicilio effettivo la signora Maria Iannacone dichiara agli atti di aver visto una o due persone non ricordo il numero con il viso coperto da una specie di calzamaglia nera con una maschera la relazione a proposito non dice nulla né esiste traccia di questo nella esposizione grafica dell'eccidio né mai i brigatisti hanno parlato di uomini mascherati negli atti della magistratura si evince però che la persona con il passamontagna è quello della onda è possibile approfondire questo aspetto così come di quante persone indossavano il passamontagna la relazione sostiene che gli accertamenti effettuati dal servizio antiterrorismo in ordine a Moscardi non hanno evidenziato nessun rapporto con i servizi di sicurezza vale per Moscardi la stessa considerazione fatta prima analogamente per quanto ci riguarda fatta la premessa che ha detto il dottore prima e che condividiamo non ha alcun valore la dichiarazione della moglie a proposito del rapporto del marito con i servizi armi di via Fani 66 barra 1 la relazione non chiarisce se siano compresi i colpi estratti dai corpi delle cinque vittime di via Fani parla invece di possibilità di colpi smarriti partendo dai verbali di rinvenimento e sequestro si può tracciare il movimento di chi li ha presi e di chi ha aperto i plichi nella relazione è scritto testualmente tra i reperti consegnati da Benedetti indicati come riconducibili a via Mario Fani sono risultati presenti due bossoli calibro 38 special e due bossoli calibro 22 LR con relativi 4 proiettili e risulta che gli stessi non erano stati sequestrati in via Fani ma recuperati da un sotto ufficiale dell'arma in località Mazzalupo si evidenzia l'anomalia dell'affermazione nei reperti di via Fani se abbiamo capito bene sono inseriti bossoli trovati in altro luogo si segnala che Benedetti è ancora in vita si evidenzia ancora che la relazione riferisce un passo della prima perizia balistica Benedetti nel quale è certo che i bossoli calibro 9 parabellum sono parte di uno stock di fabbricazione non destinata alle forniture standard dell'esercito della marina e dell'anatica militare italiana non è considerato affatto il noto documento del quale se dovesse servire siamo in grado di fornire copia detto Spinella De Francesco del 27 settembre 1978 nel quale si dice testualmente che dagli esami compiuti dai periti su alcuni bossoli rinvenuti in questa via Fani risulterebbe che le munizioni usate provengono da un deposito dell'Italia settentrionale le cui chiavi sono in possesso di sole sei persone è possibile come ben sanno gli esperti ricostruire la via della singola munizione e va ricordato per eventuali forme di damnazio memoria che il calibro 9 parabellum all'epoca era solo per i militari 155.1 e 195.1 Alfa Sud Ucigos Roma S88 162 la relazione riporta la testimonianza dell'autista dell'Alfa Sud il poliziotto della Digos Emilio Biancone talvolta nella relazione scritto Bianconi secondo il quale quella mattina giunse in via Fani insieme ai dottori Spinella e Gian Cristofaro solo dopo pochi minuti dall'agguato tanto che era presente una volante della polizia la domanda è si tratta della volante di Montemario sopraggiunta mentre l'ultima auto delle Brigate Rosse va via dalla documentazione si evince la presenza di tre auto giunte nell'immediatezza dell'eccidio Alfa Romeo di colore bianco indicata da Barbaro l'Alfa Sud di colore beige di Spinella la volante di Montemario della quale parla il testimone di Leva necessitano maggiori informazioni sulle tre auto perché solo dell'Alfa Sud abbiamo tutti i dati ed è inoltre necessario escludere che l'auto della quale parla Barbaro sia quella di Spinella vanno verificati dunque i rapporti registri dell'epoca considerato che noi abbiamo riscontrato che i rapporti registri degli anni 50 sono conservati e ci dicono tutti i movimenti in tal senso Biancone sostiene testualmente ci trovavamo in questura e non appena il dottor Spinella ha avuto notizia di quanto accaduto siamo partiti e abbiamo raggiunto via Fani è necessario chiarire come siano potuti giungere nella immediatezza dell'agguato come riportato più volte nella relazione visto che l'auto proveniva dalla questura di via Genova che si trova alle spalle di via Nazionale che dista da via Fani 8 chilometri e mezzo e si percorre in 19 minuti senza traffico in 21 minuti con il traffico percorso dal lungotevere Flaminio secondo le mappe dell'epoca passando invece per via della Camilluccia la distanza è di 8 chilometri e 300 metri ma i tempi di percorrenza salgono a 24 minuti con traffico e a 22 senza traffico nella nostra valutazione abbiamo ridotto questi tempi considerando che normalmente la macchina polizia c'è quello che volgarmente viene chiamato il pappagallo sopra pur considerando che l'auto viaggiasse a velocità sostenuta come sostiene Biancone è necessario tener conto che dal momento in cui Spinella è stato informato dell'eccidio Biancone perde svariati minuti non quantificabili per tentare di liberare lo dice lui l'auto a disposizione di Spinella imbottigliata nel parcheggio della questura di Roma tanto da decidere di utilizzare l'alfa sud di Gian Cristoforo Biancone descrive il percorso nella relazione che ci è stata data e dice uscendo dalla questura percorremo via nazionale piazza Venezia corso Vittorio Emanuele superato il Tevere imboccammo via della Traspontine superati quartiere Prati giungemo a piazzale Clodio quindi imboccai la panoramica fino alla via trionfale poi via Igea e via Fani andammo molto veloci e ritengo di aver impiegato circa 15 minuti o poco più la descrizione dell'intero spostamento di Bianconi e di Spirella dal momento in cui viene avvisato in questura al momento in cui giunge in via Fani lascia aperti molti dubbi se è corretta la descrizione di Biancone e non abbiamo motivi per dubitarlo il dirigente della Dicos Spirella arriva in via Fani con l'alfa sud intorno alle 9.25 9.30 considerato che l'agguato inizia all'incirca alle ore 8.55 e che alle 9.30 secondo la relazione della commissione Moro 1 la notizia arriva in questura Spinella tecnicamente è stato avvisato dopo le 9.30 dove tutto questo fosse corrispondente a verità all'arrivo di Spinella in via Fani si trova già la signora Moro che il primo agosto 1980 alla commissione Moro dichiara sono arrivata in via Fani un quarto d'ora dopo cioè non oltre le ore 9.15 le autorità sono arrivate dopo di me 10 o 15 minuti mi hanno detto in maniera precisa sono state le Brigate Rosse a questo proposito si fa notare che la prima telefonata di rivendicazione delle Brigate Rosse è all'agenzia ANSA alle ore 10.10 del 16 marzo 78 noi ci chiediamo come mai Biancone non parli mai della signora Moro che era sul posto al suo arrivo e che ovviamente per le condizioni nelle quali era e per quello che faceva non poteva passare inosservata in merito all'arrivo delle auto della polizia in via Fani il poliziotto Biancone sostiene che all'arrivo in via Fani con Spinella in base alla sua descrizione intorno alle ore 9.25 9.30 trova una sola volante con i colori di istituto allora non si capisce come sia possibile che una sola auto della polizia sia giunta in via Fani visto che Bianconi sostiene lui a voi già nei pressi di via nazionale alla radio si sentivano comunicazioni relative a quanto accaduto in via Fani le due cose sono evidentemente incompatibili perché i tempi non corrispondono domanda è possibile disporre di un elenco delle auto della polizia sopraggiunte in via Fani il 16 marzo 78 perizie balistiche la ricostruzione della polizia scientifica della guata di via Fani che dice se facciamo due fasi facciamo fare qualche risposta no Presidente si ho capito ma io sono due argomenti diversi una cosa poi c'è le perizie balistiche che è una seconda io credo oggettivamente e auspico anche che così come io ho avuto la possibilità dopo aver sentito la relazione un'altra volta sulle perizie balistiche sicuramente siccome su queste cose diceva il dottor Giannini che è in grado di dargli alcuni chiarimenti intanto poi facciamo le perizie balistiche interrompiamo no non c'è problema perché se no sulle perizie balistiche c'è anche le risposte da dare a Fornaro quindi faremo una cosa unita se non ha nulla in contrario no perché a Fornaro non abbiamo risposto ancora non facciamo relazioni non facciamo domande non aggraviamo le cose no io non voglio neanche gravare però l'onorevole Grassi sta svolgendo un racconto con tutta una serie di domande abbiamo fatto la prima parte rispondiamo alla prima parte poi siccome lo senatore Fornaro ha parlato prima dell'onorevole Grassi quando ha finito quando parla la balistica dell'onorevole Grassi faremo due risposte che se no il senatore Fornaro sembra che è venuto qui a partire tempo non le pare no 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 cioè come abbiamo sentito quello dell'onorevole Fornaro senti voi l'onorevole Fornaro ha fatto una premessa prima che abbiamo dimenticato tutti e per questo ho detto non aggraviamo il senatore Fornaro ha chiesto a tutta la commissione se ci fermavamo solo a parlare di balistica è vero che l'onorevole Lavagno spero non perché si è rimasto male ha tolto delle domande rispetto agli appartamenti allora adesso facciamo l'osservazione alla prima parte poi l'onorevole Grassi fa la balistica il senatore Fornaro ha fatto la balistica quello che è possibile fare poi si aggiorna poi daremo modo al senatore Lavagno un'altra volta di fare le domande che avevamo deciso tutti insieme di non fare per fermarsi solo sulla balistica solo per ricordarci delle cose bene io chiedevo solamente una cortesia se era possibile avere il flash del punto per punto perché lo hanno dato allora mi pare che avevamo iniziato con il discorso dello sbossolamento se non sbaglio bene non sono state effettuate prove a fuoco in via Fani non sono state effettuate nell'ambito della ricostruzione non sono state effettuate adesso sarà mia premura nello ma guardi su questo se è opportuno farle o meno possiamo poi sentire l'esperto l'esperto della polizia della polizia scientifica io non so darle una esatta risposta e da tenere presente che queste prove dovrebbero essere fatte con le armi all'epoca utilizzate e di armi all'epoca utilizzate non sono tutte e comunque non è non è esaustiva allora poi per quanto riguarda l'accertamento dell'auto della poggio delle rose della poggio delle rose è stato abbastanza complesso e approfondito perché alla motorizzazione addirittura questa macchina non risultava essere appartenente a questa società ma risultava essere ancora in carico alla leyland come lei sa e solamente andando mi pare a Pomezia che ci sta un ufficio con le microfilmature siamo risaliti al discorso della poggio delle rose per quanto riguarda la assicurazione grazie del suggerimento sarà una cosa che vedremo anche se noi abbiamo chiarito e quindi lo ritenevamo abbastanza significativo che l'auto era in uso pressoché esclusivo di Bonanni sia per sua stessa ammissione confermato dalla moglie e anche la circostanza che qualche volta la usava la compagna all'epoca poi moglie Savona Isabella lo abbiamo dato come fatto accertato quindi comunque faremo prendiamo atto di questa sua cosa se è stata già fatta la verifica va benissimo per quanto riguarda il fatto che Bonanni non è stato mai ascoltato in precedenza è stata una cosa che è stata da subito messa in rilievo e ci starà nelle relazioni voglio far presente una cosa guardi io apprezzo molto questo spirito di collaborazione che lei ha detto molto ci mancarebbe altro noi siamo a disposizione della commissione per ogni per ogni cosa con tutto il nostro impegno quello quello questo fatto che lui nell'immediatezza è stato non sentito perché ci sono stati solamente dei colloqui noi abbiamo acquisito e trasmesso alla commissione che sono una delle prime relazioni una attività ci sono stati solo dei colloqui sì perché dalle escursioni che lei vede del del buonanni si capisce che lui è sceso ha interlocuito nella confusione in strada per cercare di capire qualche cosa di avvicinare non è stato fatto avvicinare non è stato fatto avvicinare poi però noi troviamo un foglietto a margine del verbale di restituzione che viene fatto alla digos dalla digos all'epoca in cui c'erano delle informazioni sommarie per lui come per moscardi che erano state effettuate che sono stati allegati alle precedenti relazioni che sono in atto alla commissione la relazione conclusiva sostanzialmente dà delle conclusioni tante cose sono state già dette in quelle precedenti che invito comunque a consultare perché sono nella disponibilità quindi per darle un suggerimento guardi al Pra esce subito Poggio delle Rose lo ha riportato anche un libro una decina di anni fa se lei mi dice quello a me mi viene il dubbio allora guardi il Pra è dove l'abbiamo preso noi perché lo abbiamo preso al sistema microfilmato tra l'altro chi ha trovato questo dato è stato molto bravo perché invece con una semplice interrogazione non esce poi per quanto per quanto poi riguarda il quindi è vero che non era mai stato ascoltato ma aveva rilasciato una brevissima dichiarazione solamente all'atto della restituzione del veicolo è stata trasmessa questa 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 seconda seconda relazione le devo dire che non so perché e per come e che tipo di valutazione sia stata fatta nell'immediatezza per la per fare questa attività e per la tempistica questo all'epoca non c'ero e non glielo so dire poi per quanto riguarda il fatto che la FIDREV è azionista di maggioranza della società che stava in via gradoli è stato messo per memoria questa domanda perché non hanno visto le auto io l'ho fatta a dottor infetisi e dottor infetisi ha ricordato a tutti noi ha dato la sua versione io quando sono arrivato a quel posto non mi sono preoccupato delle macchine parcheggiate per sapere chi erano e chi non erano tra l'altro io l'ho presi pure male allora lui l'ha ribadito io ero terrorizzato che ci fosse qualche materiale esplosivo che avesse fatto morire altra gente una domanda che ponemmo allora e questa con la risposta di infetisi non mi sono preoccupato di niente perché la mia preoccupazione era che non succedesse altro questo ricordo nostro per quanto per quanto riguarda chiedo scusa presidente questa affermazione di infetisi è parzialmente falsa perché si quel giorno ci si sono si sono preoccupati di prendere le date se lei si ricorda gliel'ha detto lo so benissimo in falso mica era lei ad infetisi perché ho capito ma gliel'ha già detto non c'è bisogno che me lo ricorda no perché quel giorno furono prese le targhe delle macchine presenti nell'immediatezza dell'ecidio ma solo le targhe questo per il futuro mi vuole mica a lei ad infetisi allora poi per quanto riguarda la società FIDREV che è azionista di maggioranza delle società di via gradoli è quello che è stato riferito in precedenza è stato segnalato nelle precedenti relazioni le dichiarazioni di De Rosa l'approfondimento delle dichiarazioni di De Rosa che noi conosciamo lo riteniamo superfluo farlo prima di avere un esito di tutte le attività che farà lo SCICO e che sappiamo essere in atto siamo stati noi a segnalare comunque il fatto che ci fosse questa attività della FIDREV per i servizi di sicurezza per quanto riguarda mi diceva il notaio Vittorino Squillaci il notaio Vittorino Squillaci stiamo facendo degli accertamenti lui è morto nel 2005 riteniamo che sia lui perché troviamo nei dati anagrafici di agenzia delle entrate un solo Vittorino Squillaci è segnalato come funzionario del Viminale questo io ho fatto l'accertamento che però è ancora in atto in divenire che ci ha chiesto di fare la dottoressa di Intisona ma ancora non l'abbiamo finito sul e questo non era un funzionario di polizia forse siamo stati carenti perché la prima cosa che ci è venuta in mente Viminale funzionari di polizia visto che poi è diventato notario invece non apparteneva ai funzionari di polizia stiamo completando perché ci sono anche i funzionari della carriera prefettizia e non abbiamo avuto ancora no ma io non sto io sto sto dicendo gli accertamenti come sono della difficoltà che c'è perché questo questo è purtroppo purtroppo è morto stiamo facendo anche un altro tipo di attività che ci vuole un po' di tempo su cui poi si verrà relazionato che però è assolutamente empirica ma proprio per cercare di avere il maggior numero di chiarimenti possibili sia cercare di stabilirne il giro di affari da dichiarazioni dei redditi delle entrate e quindi poter fare una avere un panorama se ci fosse una come dire si possa immaginare perché poi lui non c'è più una attività dedicata oppure una attività vasta una attività diversa poi se non sbaglio è stato chiesto qualche qualche chiarimento sulla società sulla società Chiria della signora Leda Marchesi allora è vero che nella la Chiria Costruzione Edilizie non risulta dalla mera visura online che la Leda Marchesi sia questa però noi abbiamo l'abitudine di andare un po' oltre siamo andati oltre alla Camera di Commercio è stato visionato l'intero fascicolo della Chiria dalla quale è emerso che la società è stata costituita con un capitale sociale pari a 300 mila lire interamente sottoscritto e versato dai seguenti soci nelle rispettive proporzioni c'era Cicchetti Giulio nato a Pizzoli nel 34 deciduto nel 2013 che aveva versato 145 mila lire altre 145 mila lire le aveva versate Cicchetti Nazareno e poi c'era la Marchesi Leda che aveva versato 10 mila lire C'è poi da dire che questa società è stata sostanzialmente dedicata solo alla costruzione di quel palazzo e Bonanni fa dichiarazioni conformi a questo perché ci ha dichiarato che loro facevano le società per costruire le varie immobiliari e le varie società è stata non so se la vedo da altre segnalazioni che abbiamo avuto oppure l'ha citata lei il fatto che c'è una mancanza della ditta di questa chidia manca il codice fiscale bene la società è dotata di un numero di registre ditte che è stato rilasciato all'atto dell'iscrizione ma non di un codice fiscale in quanto è stato introdotto il codice fiscale nel nostro sistema solo nel 1982 la società è nata nel 65 e cessata nel 69 a questo tipo di mancanza e anche dalla presentazione dei dati online noi abbiamo cercato di capire perché dalla visura uscivano fuori delle certificazioni inibite dei dati qui noi non abbiamo una risposta certa scritta perché sostanzialmente quello che ci hanno detto al personale nostro operante le persone era in questi casi di guardare il cartaceo perché quando si andava a società di oltre 40 50 anni addietro e quando c'era tanta carta spesso non erano inseriti tutti i dati però nel cartaceo questo risulta chiaramente questi archivi sono tutti qui per fortuna non sono capitati allagamenti sono disponibili quindi l'abbiamo voluto vedere poi c'era anche il problema del fatto di Chiria con Marchesi Leda che non appariva e per questo per questa mancata informatizzazione ma risulta dal cartaceo non risulta solo dal cartaceo noi all'EMPAF abbiamo fatto ulteriore attività abbiamo acquisito l'atto di compravendita del palazzo dall'atto di compravendita del palazzo risultano la Marchesi Leda come appartenente alla società Chiria che aveva proposto e venduto il palazzo non solo e risulta Lanfranco Bonanni padre di Patrizio che per conto della Chiria aveva fatto la proposta diciamo così di vendita perché si c'erano il terreno costruivano e poi vendevano le case c'è poi un discorso che lei ha correttamente fatto rilevare del sistema informatico dei due codici fiscali esistono effettivamente due Marchesi Leda nel sistema informatico una con il codice fiscale completo ed un'altra con codice fiscale parziale perché guardando il cartaceo e c'è un asterisco l'asterisco è immesso direttamente dal sistema quando si trova di fronte a un codice fiscale che non è validato dall'Agenzia delle Entrate in quanto contiene un errore in questo caso lo abbiamo accertato l'errore in questione è quello della lettera E evidenziata M-R-C-L-D-E 24-E e poi prosegue con i dati quando invece doveva essere 24-A quindi siccome chi ha digitato ha scritto male il codice fiscale per una lettera risulta senza perché non prende se non è che segnala un codice diverso è un codice in esistenza e non lo prende abbiamo fatto però un ulteriore controllo non ci siamo accontentati e abbiamo estrapolato dalla visura della residenziale sole mare il codice fiscale che era la società e qui compare il giusto codice di Marchesi-Leda quindi spero che questi dubbi siamo riusciti a chiarirli tutti presenti nelle relazioni che sono state poi questi dati che c'erano sul cartaceo presentati poi mi pare che erano stati chiesti dei chiarimenti su Moscardi su dove eh andiamo perché ho perso il filo notare che il Bonanni non ricordava il contratto con l'Empaf o la cessione dell'appartamento da un amico e poi passo ai reperti perché dalla relazione non si capisce di quali reperti stiamo parlando poi vado a Barbaro comunque ho lasciato al presidente una copia posso? certo grazie guardi le cose nostre sono tutte pubbliche tranquillamente le cose nostre le consegniamo no io parlavo per me quindi l'ho consegnata pagina 3 allora in me l'ufficio corpo di reato il tribunale di Roma ha constatato l'incompletenza della stessa questo eh 29.0 una pagina non è 3 questa che c'ho io in relazione all'incarico affidato una signorina ossa in qualità di ufficiale collegamento della commissione di maniera richiesta sull'interno di moro ad integrazione eh ti sto leggendo la cosa a cui fa riferimento tu e te la sto leggendo è stata richiesta attraverso la DCPP al presidente del tribunale di Roma dottor Bresciano l'elenco delle petti costuditi presso quell'ufficio corpo di reato presso la carta di Alcise relativa al caso Moro in merito l'ufficio corpo di reato e il tribunale di Roma ha risposto con note del 9.12 e dell'11.12 la prima nota ha trasmesso un elenco di reperti constatata all'incompletezza della stessa è stata fatta un'ulteriore richiesta coeseguita la seconda nota che ha precisato i vari processi Moro e ha ripetuto la ricerca estesa anche reperti cosiddetto definiti ovvero non più presenti in quanto distrutti sono stati rinvenuti ulteriori quattro reperti attivi secondo quanto comunicato e ci sono gli allegati è il tribunale di Roma che risponde no ma chiarisco subito il concetto dei reperti mancanti glielo chiarisco subito senatore allora noi appena abbiamo visto questo elenco è depositato lo guardi non è di facilissima consultazione anche per come è stampato però c'è subito saltata gli occhi che per esempio mancava il berretto d'aviatore che per esempio non c'erano i boss che mancavano i proiettili allora abbiamo fatto un'ulteriore richiesta al tribunale al tribunale di Roma e dicendo qui mancano che indicazioni potete 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 darci o potete è passato un po' di tempo e ci hanno dato un'altra risposta che comunque non era esaustiva perché hanno consegnato altro materiale ci ha collaborato nel buon marrazzo in questo tipo di attività hanno consegnato altro materiale ma sempre ne mancava altro e allora abbiamo iniziato a fare un ragionamento di dove potesse essere andata a finire queste cose in particolar modo per i reperti balistici e abbiamo pensato di rivolgerci ai periti ed è per questo stato escusso più volte Benedetti che è vivente e che io ritengo poi non è compito mio e questa sarà persona che potrà essere esclusa anche per dare perché ha una grande memoria e qui attraverso le indicazioni di Benedetti abbiamo avuto la possibilità di recuperare bossoli proiettili e caso strano a Gardone Valtrompia che non è che c'entravano con le loro perizie c'erano i famosi baffi finti il berretto tutto quel materiale e ci siamo andati andando un po' attentoni e chiedendo e poi lì abbiamo avuto la sorpresa che le dicevo di io penso decine e decine di pistole mitra e tutte le armi delle Brigade Rosse perché poi il perito era stato incaricato di fare tutta questa attività spero di essere stato esaustivo il punto 56.1 c'era 56.1 della nostra in relazione a chi è Barbaro 56.1 è Barbaro allora per quanto per quanto riguarda per quanto riguarda Barbaro abbiamo evidenziato ed è stata evidenziata nella relazione l'incongruenza che lei diceva della moto che in primo tempo viene vista e poi non viene vista poi le devo dire che l'attività per cercare di capire l'alfetta è un'attività su cui non abbiamo ragione dice è stata evidenziata tra l'altro è scritto ma io dico evidenziata la contraddizione delle due dichiarazioni la relazione non approfondisce l'ambiguità della dichiarazione stessa delle due una delle due non è corretta le devo dire però che non so se sarà nelle vostre decisioni con tutto il rispetto stiamo parlando di una persona che si avvicina ai 90 anni non è lui ha proprio avuto questa contestazione ha detto che non ricordava assolutamente e poi noi abbiamo verificato che mi pare non credo di sbagliarmi che già in precedenza in precedenti dichiarazioni forse fatte nel 94 a Marini non si era ricordato non si era ricordato questo particolare poi per quanto riguarda Barbaro per quanto riguarda Barbaro anche qui abbiamo cercato di approfondire il motivo della sua presenza e qua abbiamo trovato l'Empaf abbiamo fatto le richieste all'Empaf per le residenze peraltro e l'Empaf non ci ha dato le persone che occupavano all'epoca i palazzi ci ha detto messo per iscritto che era andato questo materiale era andato distrutto però ci ha fornito sei conduttori sei conduttori per le quali le cui il loro carteggio era stato informatizzato poi abbiamo visto che Barbaro aveva un problema di morosità perché Barbaro non ce n'aveva una di case dell'Empaf ce n'aveva due c'era l'ufficio in via Mario Fani 109 e ci aveva una casa in via Madesimo da tutte e due sono vicende che sono poi finite con con uno sfratto con uno sfratto per morosità poi ci tengo a dire un'altra cosa quando noi diciamo e anche qui sono state fatte le solite domande e la ringrazio che ha apprezzato la spiegazione sul perché noi chiediamo se fanno parte dei servizi però lei non credo che troverà una dichiarazione in cui noi escludiamo rapporti con i servizi lei troverà sempre che da quello che abbiamo fatto non è risultato perché su questa vicenda sarebbe poco professionale mettere una parola fine ma è di tutta di tutta evidenza su questa cosa qui lei lei sta dicendo l'abbiamo già detto ieri a quel qualcuno l'ha detto bene onorevole grazie vorrei evitare che ce lo ricordi anche stasera no io lo sto dicendo a suo conforto no 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 e poi onorevole guardi questo non c'è noi siamo assolutamente a disposizione io parlo della polizia di stato dall'ufficiale di collegamento a me al servizio alla polizia scientifica a verificare tutto ciò che la commissione ritenga debba essere debba essere verificato c'era il cenno a proto alle ma ma non salti i paragrafi dottor no e allora me lo devo mettere davanti gli occhi non ce l'ho ma lei me lo ricordi ah sì no no facciamo così io ne do una copia no non è che non ce l'ha chiare che non mi ricorda ha fatto ha fatto un libro ha fatto benissimo benissimo allora bene questa attività questa attività della macchina di accertare quale sia la macchina è un'attività che in corse non ha ancora avuto un esito io le devo dire la verità non le dico quello che abbiamo fatto è venuto un dubbio il dubbio è venuto proprio la dottoressa di Intisona perché è importante trovare sta macchina di Bottazzo che diceva lei perché Bottazzo non era solo l'autista della persona ma Bottazzo era uno che si era fatto 25 anni di squadra mobile di Roma ed era andato poi in pensione faceva quel lavoro forse era meglio remunerato all'epoca si andava in pensione molto prima e quindi faceva questo tipo di attività Bottazzo è morto abbiamo provato a rintracciare il figlio e io sto dicendo questo perché poi magari lo documenteremo in fondo però voglio che sia chiaro dello scrupolo che ci mettiamo poi possiamo non riuscirci però voglio che sia chiaro questo abbiamo contattato il figlio di Bottazzo chiedendo di trovare una foto del padre morto da tanti anni per una serie di vicende familiari non ne aveva disponibilità e allora ci siamo rivolti all'ingegner Pellegrino Pellegrini mi pare che era la persona che Bottazzo accompagnava la mattina anche lui è molto anziano ma molto lucido e l'ho raggiunto telefonicamente in Svizzera perché non risiede più in Italia e ho chiesto la descrizione di Bottazzo e il tipo di abbigliamento e tutto e lui ha escluso categoricamente che potesse essere lui è venuto anche un altro dubbio un altro dubbio l'altro dubbio è che potesse essere qualcuno sceso non dall'alfetta ma dalla macchina che diceva lei purtroppo di quella pattuglia è vivo solo Biancone perché il dottor Spinella e il dottor Gian Cristoforo sono deceduti e comunque il Bianconi da quello che ricorda da quello che ricorda non ricorda comportamenti del tipo cacciare via subito e questa è un'attività che noi mano a mano che sentiamo i testimoni stiamo cercando di ricostruire perché io concordo con lei è importante stabilire questo passaggio c'era qualche altra dichiarazione di Barbaro allora questo è necessario approfondire perfetto Bruno Pastori Stocchi non è suffragato con alcuna testimonianza o prova documentale su questo è vero però Bruno Pastori Stocchi è morto ed è morta anche la moglie di Barbaro a mio avviso ma è stato rappresentato si potrà anche qui fare un'attività di acquisizione e di scoperi che permetterà di fare questo tipo di cose dalla questo la riporto derelato dai colleghi che poi hanno fatto l'escussione io ho avuto l'impressione che ci fosse sia da come aveva asserito Barbaro che ci fosse qualche divergenza di modo di vita o ideologico non so Barbaro c'ha anche riferito che lui aveva fatto il partigiano e per questo si era in qualche maniera subito reso conto di quello che stava succedendo ritengo che questa strada di accertamento si può fare con delle acquisizioni documentali che siamo pronti naturalmente a fare Giuliano Proto passiamo in segreta passiamo in segreta per favore grazie sì allora quella cosa gli accertamenti non hanno evidenziato 54.1 sì bene grazie 54.1 Maria Gianna eccoci allora per quanto riguarda la ricostruzione e il fatto che non ricordava gli amici da cui viveva e questa è stata un'attività estremamente complessa anche qui la cosa che noi abbiamo fatto era cercare di capire vista la personalità visto il soggetto vista questa appartenenza alla decima alla decima mass era quella di capire se avesse una motivazione e se fosse vero che realmente lui abitava in in quel palazzo avessero disponibilità di appartamento allora per per questo è stato rintracciato un verbale il primo verbale reso alla polizia giudiziaria che è stato reso il 23 marzo del 78 questo verbale è stato redatto proprio all'interno dell'abitazione dove abitavano Moscardi e Ghiannacone questo risulta dall'atto dei carabinieri vale a dire loro dicono che è stato fatto in via Mariofani 109 interno 18 scala B quindi sapevamo qual era l'interno e abbiamo potuto così superare la mancanza dell'EMPAF che non ce l'ha detto l'abbiamo fatto trovando questo verbale che è stato un po' complicato però visto e considerato che già la Ghiannacone ci aveva detto che stava lì non si sa bene a che titolo con amicizia siamo andati un po' oltre per cercare di rintracciare chi fosse l'effettivo titolare di questo contratto di erogazione o l'effettiva persona che avesse nella disponibilità questa casa e allora che abbiamo fatto abbiamo fatto l'accertamento alle società di erogazione elettrica per verificare se qualcuno all'epoca avesse fosse titolare di un contratto avesse stipulato un contratto per l'energia elettrica e abbiamo accertato che tra il 73 e il 2007 una signora Perlman Vali aveva fatto il contratto e quindi aveva la disponibilità di questo appartamento abbiamo poi escusso questa signora ed il figlio e tra l'altro loro hanno ricordato che avevano ceduto l'appartamento a una coppia di amici del marito e hanno anche datato alcune circostanze vale a dire l'appartamento che si era limitata per il decesso del compagno che poi era non so se un giornalista o uno dei proprietari del corriere dello sport dell'epoca era deceduta la mamma quindi avevano dato questo appartamento e se l'erano ripresi quando ne aveva avuto bisogno il figlio la datazione che si dà è sostanzialmente una datazione che è dovuta da queste circostanze ma dalle dichiarazioni sia della signora che del figliolo che della Iannacone abbiamo notato anche noi la circostanza che lei ha sottolineato che è la circostanza di quella all'epoca che inserisce il Tullio Moscardi in quel verbale però tenga presente che in pari data è sentita anche sempre lo stesso giorno sempre nelle stesse circostanze adesso le dico se prima o dopo è stata è stata sentita la signora Iannacone Maria il 23 del mese di novembre davanti al dottor Amato che non ci ha messo l'orario e Iannacone Maria in quello stesso giorno dichiara di essere residente a Roma in via Mario Fani 109 faccio presente che dalle altre dichiarazioni che c'erano abbiamo capito che in precedenza sostanzialmente in via del corso dovevano abitare c'era anche la ditta del lavoro quindi io non so adesso non lo possiamo sapere se c'era una differenziazione di domicilio tra i due una cosa è certa che al 23 novembre 79 la Iannacone dichiara di essere lì residente quindi abbiamo penso senza ombra di dubbio stabilito quale è l'appartamento e abbiamo anche la datazione non è certa però è ricavata dalle escursioni e dalle circostanze di vita di questa coppia di persone allora per quanto riguarda la dichiarazione di aver visto uno o due persone con la calza maglia nera sul viso allora l'accertamento che è stato effettuato in questa fase era verificare se ci potesse essere un angolo visuale dall'abitazione Moscardi di Annacone che poi a questo punto noi avevamo individuato con certezza che consentisse di vedere quello che aveva visto di questa persona di questo calza maglia un po' particolare non è solo lei che ne parla quindi l'abbiamo ritenuta una dichiarazione attendibile e anche una dichiarazione come dire realizzabile erano le cose che si potevano vedere lì da dove abitava il rapporto con i servizi abbiamo armi in via fanni 66 barra 1 allora allora no da questo punto di vista ha ragione perché noi abbiamo fatto ogni tipo di ricerca perché non sono le armi smarrite adesso parlerò del mitra di cui ha parlato il suo collega l'arma di Falcone di tutto quello che abbiamo fatto per trovare l'M12 però il problema è che mancano dei colpi dei proiettili nella escussione di Benedetti nell'escussione di Benedetti sono specificati esattamente i proiettili che mancano si parla di 130 si parla di altri che stanno in terra però sta nella relazione che sta agli atti io ritengo superfluo fare la verifica dai verbali di rinvenimento e sequestro perché dai le attività che noi abbiamo fatto datiamo e siamo certi che questa roba qui è stata tutta nella disponibilità di Salza e Benedetti perché dico questo perché Benedetti a cui manca l'ultimo passaggio e che non sa spiegare perché mancano queste cose ci dice guardate però sono tutti stati fotografati esaminati tutti allegati alla perizia Salza e Benedetti con le armi io ritengo che sul punto non c'è da cercare altro ma ci si ferma Benedetti Benedetti che sollecitato da noi in più colloqui e in escursioni ha preso l'impegno di andare a cercare questi oggetti e questi proiettili a casa di Salza deceduto e non li ha non li ha trovati io devo dire la verità poi non perdo la speranza noi abbiamo fatto un altro tentativo e siccome in quello scantinato di Gardone Valtrompia abbiamo trovato i baffi chiedo scusa per capire io ma come mai i reperti o i proiettili i bossoli stanno a casa delle persone voglio dire non è stiamo parlando del caso Moro ora io vedo il suo sorriso mi conforta perché ogni tanto mi viene il dubbio di essere non essere normale no guardi l'unica cosa è che non ce la pediamo con Benedetti e Salza che finisce che hanno fatto un'appropriazione in debita quando tenendo presente l'andamento di alcuni periodi della Repubblica Italiana gliel'hanno dati lì gliel'hanno costruito in quantitativo industriale e poi hanno detto non sappiamo dove metterli e se ne sono buggerati queste cose succedono in Italia no no ma queste cose succedono è vero ma dimostrano anche la sciatteria con la quale è stata gestita la vicenda eh onorevole sa perché sempre scusi dottore la risposta è al signore di ieri io non lo so chi è eh onorevole sa il mio sorriso qual era perché io penso che il passo successivo di questa sua battuta sarà l'apprezzamento perché non è stato facile andarli a trovare ecco bene e che cosa poi abbiamo ulteriormente fatto visto che a Gartone Valtrompia troviamo i baffi che non avevano nessun motivo di essere abbiamo anche cercato se in tante volte per qualche strano motivo in mezzo a tutti quei reperti di Gartone Valtrompia ci fossero finiti tutto questo tutto questo materiale noi produrremo una relazione per caso ha trovato anche il bottone del carabiniere è polemica la mia domanda ovviamente non a lei eh no il bottone del carabiniere perché nella scena di Viafani c'è un bottone di carabinieri e poi diciamo questo bottone di carabiniere non è che non sappiamo dove sta non sappiamo nemmeno di chi è a distanza di tre e le dicevo io personalmente non ho perso le speranze che questa roba venga fuori ma non ho perso le speranze perché poi stiamo cercando anche di vedere se tante volte ci fosse una corrispondenza di rimando di qualche plico oppure di andare a vedere a nessun non so senza titoli ho chiesto notizie io poi parlo impropriamente ho chiesto perché poi sono cose che sono state fatte dalla collega dottoressa di Intisona ci siamo rivolti anche all'istituto di medicina legale se tante volte facendo siccome alcuni proiettili sono stati tirati fuori e quindi erano lì se qualcuno li avesse rimandati e non hanno rintracciato nulla stiamo vedendo in vari magazzini abbiamo chiesto al Buon Marrazzo più volte però queste cose che mancano l'ultimo passaggio accertato è certamente Benedetti farò avere e qua non possiamo fare un'opera di legalità con Benedetti e con quelli che ce li hanno a casa portiamo tutto a casa pubblica togliamo dalla casa dei privati Benedetti ci ha pregato di portare via tutto solo che noi siamo ci occupiamo di viafani non delle 20 anni di esperienze di bande armate per cui mettiamo su un museo delle armi degli anni di piombo se noi riuscissimo a farci dare il museo delle armi questo è un tema che si è posto è vero che con il dottor Giannini abbiamo detto se come commissione alla fine del lavoro ipotizziamo di fare una proposta di legge che facciamo un museo che ricordi gli anni di piombo sul territorio nazionale forse voi mi dovete credere il quantitativo che non si può dire che c'entra il sequestro ma quello che è stato incidentalmente trovato dalla caprabbiata loro perché non c'era niente a quel posto lì c'è un quantitativo di armi dimensioni giganti io ho la sensazione come se saturati tutti i buchi che c'erano in giro per qualche procura hanno detto visto che questi hanno fatto la perizia se li tengono lì e non ci chiedono manco di andare alla PA poi questo lo possiamo commentare come ci pare però credo e questo lo dico seriamente che se tutto sommato in corso dei nostri lavori ci per il rispetto di coloro che ci hanno rimesso la vita per la democrazia di questo paese se noi poi ipotizziamo che ci si possa anche ricordare e che i giovani che oggi non ne hanno memoria possano anche visivamente ricostruire i percorsi e quello che è stato credo che facciamo un'opera di bene perché stanno reperti puntati in là stessa cosa vale e così concludiamo per i reperti che abbiamo tirato fuori dei covi delle BR perché poi individuare quel posto che cosa c'è e se essere certi che quella roba riferisce veramente a quel covo è una cosa che c'è da in vero simile eccoci continuo tra i reperti consigliari da Benedetti indicati come sono risultati due bossoli calibro 38 e due bossoli calibro 22 allora anche qua questa cosa ci ha tra virgolette stranito perché escono fuori queste cose che senso che senso ha da dove fanno parte allora si troverà allegate in relazioni che sono state consegnate un rapporto dei carabinieri e sostanzialmente viene vengono trovati da o consegnati da un sott'ufficiale dei carabinieri che ha segnalato che erano state fatte delle tercitazioni a fuoco nelle campagne in zone le circostanze e viene conferito un incarico veritale mi pare dal dottor Priore per stabilire se questi colpi avessero in qualche misura a che vedere con questo la perizia lo ha escluso devo dire la verità io ho visto in questo caso abbiamo constatato l'ansia di Benedetti di liberarsi di queste cose che ci aveva a casa quindi quando noi siamo andati a prendere gli abbiamo fatto specificare a verbale che era cosa diversa ma non sono tra i reperti di Viafani li aveva però lui periziati per stabilire se potevano avere una qualche relazione con Viafani gli erano stati consegnati ha avuto un incarico e aveva escluso abbiamo recuperato la perizia in cui dice questa ed è stata posta in visione agli atti della commissione per quanto riguarda io sarei del parere che se sempre non segue quella del senatore giornale l'Alfa Sud ne riparliamo perché se no ci sono quelli che dovranno fare se sei d'accordo che la stracciamo perché se sei tutti d'accordo quando abbiamo impedito al senatore Corsini di fare e ad altri la domanda la stracciamo quindi adesso Grassi fa leggere Spinella sì allora solo mozione d'ordine Presidente solo per capire se avevo capito bene ma poi intanto è andata in maniera diversa la mozione d'ordine fatta dal senatore Fornaro era che ci riferivamo in questa prima parte allo scenario di Viafani e tutto il resto lo lasciamo dopo il senatore Fornaro a questo si è sostenuto il senatore Corsini altrettanto io mi sono censurato su una domanda il presidente la invito a se prendiamo un accordo ce lo rispettiamo perché va del rispetto di tutti e anche del buon andamento dei lavori se no diventa un po' difficile o avevo capito male no vabbè avevi capito bene però c'è stato un disguido rispondiamo a questa cosa Spinella così passiamo alla balistica allora spiegava Bolognesi perché avevo detto non aggraviamo il malato per quanto riguarda il discorso la prima perizia la prima perizia balistica è quella non di Benedetti ma è quella di Ugolini che avanza questi dubbi su questi calibro 9 Parabellum anche qua noi abbiamo fatto delle ricerche molto molto approfondite ricerche molto approfondite che sono state quelle di recarci presso la casa intanto recuperare questi bossoli che non era un fatto scontato con questi bossoli recuperati andare alla Fiocchi e farli vedere sia al direttore del commerciale di adesso sia alla benissimo questo qui è chiaro le parole voglio siamo andati un po' oltre quindi questi ci hanno detto che questi bossoli non presentavano stranezze non presentavano anomalie e non presentavano ma si rientrava nella normalità e nichelatura o non nichelatura colore standard non erano indice di appartenenza a corpi speciali abbiamo fatto un'attività piuttosto faticosa che in quel marasma di armi munizioni dei covi per scrupolo per cercare di fare il più possibile abbiamo cercato munizioni dello stesso tipo vale a dire che non presentassero la data stampigliata sul fondello e che presentassero l'innesco quindi la parte che viene percossa per poi far partire il colpo nichelata perché chiaramente se non ne trovavamo nessuno era una presenza solo in via fan sparsi per baricovi ne abbiamo trovati una sessantina quindi che c'erano tante di queste munizioni in giro questo è un dato di fatto e non è un discorso io ne faccio una valutazione però ce n'erano tante altre e debbo anche dirle che sulla strada di questo ci ha messo sempre il perito Benedetti perché oltre a dire che per la sua esperienza professionale queste cartucce non erano diverse da tante altre aveva anche inteso consegnarci dei bossoli di prove di sparo che lui aveva effettuato su varie armi con bossoli e materiale preso all'interno di covi e ce ne aveva consegnate alcuni di questi bossoli quindi che aveva preso da altro materiale non da viafani avevano queste caratteristiche che erano state ritenute sospette da Ugolini l'appunto di Spinella noi non abbiamo avuto stiamo facendo un'attività di firme non l'abbiamo delegata a loro sull'appunto di Spinella non possono rispondere perché quella vicenda è stata ed è seguita sulla vicenda appunto da altri un'ultima cosa per completezza che non è risposto sul discorso delle armi mancanti volevo anche per dare permetto faccio perdere solo un minuto però per dare un'idea della complessità degli accertamenti non si riesce a trovare non si riesce a trovare l'M12 di cui ha parlato anche l'onorevole all'M12 quello che avevi detto che mancavano sì l'onorevole però le faccio presente quell'M12 tre colpi aveva sparato non di più allora è importante per noi recuperare queste armi l'M12 a cui facevo riferimento rispetto alla ricostruzione del la ricostruzione del memoriale Morucci è stato sequestrato e dell'arma di fiori si ipotizzava un altro M12 quello diciamo mai ritrovato le chiedo scusa l'arma sequestrata ha sparato tre chiedo scusa l'arma sequestrata giusto per ripilogare sono l'FNA 43 sequestrata l'M12 sequestrata sequestrata la pistola Sbit & Wesson e non sequestrata né la Beretta né l'altro FNA 43 allora il TZ 45 che per inciso è l'unico in cui collima tutto sono cinque colpi secondo la ricostruzione del memoriale cinque proiettili cinque bossoli da questo punto di vista è l'unica arma in cui quadra tutto perfettamente volevo dire che solo per sottolineare come l'impegno che è stato messo per cercare quest'arma l'abbiamo cercata al Banco Nazionale di Prova tra tutte quelle e non c'era abbiamo poi visto che quest'arma era stata periziata a Torino in altro procedimento penale da Baima Bollone e abbiamo interessato la Digos di Torino quest'arma era stata sequestrata dalla legione di Varallo Sesia compagnia di Varallo Sesia dei Carabinieri nell'80 il giudice istruttore del tribunale di Biella aveva disposto una perizia su queste armi e l'aveva affidata ai periti Luigi Nebbia e Luigi Lasala e avevano ricostruito che era stato abraso la matricola poi nell'80 era stata fatta su quest'arma un'altra perizia fatta dal dottor Gallucci e se ne erano occupati Baima Bollone Nebbia Ugolini Salsa e Benedetti e poi nel 1980 il giudice istruttore del tribunale di Torino dottor Giordana che aveva aderito alle richieste di Roma aveva dato un altro incarico veritale Baima Bollone Nebbia Ugolini Salsa e Benedetti e aveva e aveva autorizzato queste persone a prendere l'arma che prelevare la pistola Beretta M12 sequestrata a Falcone al reparto operativo dei Carabinieri di Torino dove evidentemente era custodita nell'80 c'è una nota di Salsa e Benedetti che dicono che quest'arma era stata portata a Gardone a Gardone Valtrompia e ci sono gli esiti della perizia da cui si vede che c'erano tre bossoli di quest'arma erano stati esplosi a via fa il 29 settembre 80 questi periti depositano al tribunale di Torino la reazione finale della consulenza balistica e la perizia stabilisce che l'arma ha sparato in via fani il 17 giugno del 1981 la prima corte di assisi di Torino nell'ambito del procedimento penale relativo agli arresti di occhieppo inferiore ordina tutta la confisca di tutte le armi e le munizioni in sequestro e dispone la trasmissione alla direzione di artiglieria per i provvedimenti di conseguenza i provvedimenti di conseguenza sono la distruzione dei reperti che sono stati confiscati noi abbiamo fatto un tentativo così a provarci alla direzione di artiglieria che aveva avuto queste armi nell'81 perché le distruggesse se per caso quest'arma per qualche strano caso del destino non fosse stata distrutta ci hanno risposto che non erano in grado al momento di trovare quest'arma che non c'era più la documentazione per l'allagamento ad Alessandria che c'era stato fatto debbo dire però che questo tentativo a questa direzione è un tentativo che viene fatto a distanza di 30 e passa anni da che era stata disposta dall'autorità giudiziaria la distruzione di quest'arma abbiamo provato anche qui a trovarla onorevole grazie può riprendere parizie balistiche cioè facciamo a round la ricostruzione della polizia scientifica la ricostruzione della polizia scientifica dell'agguato di via Fani contraddice molti atti processuali in relazione alla provenienza da destra di una parte dei colpi esplosi analogamente contraddice le testimonianze di quanti nel 78 dissero di aver sentito prima gli spari a colpo singolo e poi le raffiche non è comprensibile come si sia giunti a questa conclusione considerando che la procura generale di Roma l'11 novembre 2014 sostiene si ritiene che le modalità esecutive della strage non sono quelle di Morucci e Moretti i partecipanti furono molti di più dei brigatisti 9 o 12 indicati da Morucci e che non tutti i partecipanti erano brigatisti ben potendo le persone di cui si è negata la presenza appartenere ad altre organizzazioni terroristiche agenti destabilizzanti infiltrati da strutture segrete paramilitari con funzione di congiunzione tra gerarchie politiche e gerarchie civili e militari unite nella lotta comunismo sia appartenenti alla malavita organizzata e procura generale di Roma le perizie balistiche e i testimoni oculari a differenza di Morucci che nel suo memoriale parla di quattro colpi esplosi da quattro brigatisti attestano che a sparare fu un numero più elevato di killers il rapporto digos inviato alla procura il 17 marzo 78 parla di nove killer a parte le coperture 17 marzo 78 sul lato destro quel rapporto indica la presenza di due persone vicine all'Austin Morris mai individuate e di un tiratore armato di mitra quest'ultimo dice la digos sparò verso il carabiniere Ricci autista di Moro poi si fece indietro per allargare il raggio di azione e sparò sull'alfetta il maresciallo Leonardo venne ucciso da un altro tiratore la tesi dei nove killer è ripresa dalla sentenza della corte di Assisi del 21 gennaio 1983 la perizia disposta da pubblico ministero Antonio Marini il 2 giugno 1993 nell'ambito del Moro Quater riprende la tesi già suffragata nella perizia dell'81 e cioè che a sparare in via Fani furono sette armi i periti aggiungono alle armi dichiarate dai brigatisti un'ulteriore pistola accertando i periti che l'attacco fu portato da entrambi i lati della strada analogamente la perizia dice che Leonardo fu ucciso con una pistola 765 e dal lato opposto della strada diversamente da quanto dice Morucci l'unico brigatista in possesso di una 765 è Bonisoli che non ha mai sparato a Leonardo commissione terrorismo e stragi 23 febbraio 94 la posizione di Leonardo raffigurata dalla ricostruzione della Digos è frutto di una supposizione una persona esperta come Leonardo sapeva bene che non avrebbe potuto difendere Moro voltandosi ma solo sparando purtroppo il maresciallo Leonardo non ha avuto il tempo potrebbe darsi che Leonardo e anche questa è una supposizione sentiti i primi spari si sia leggermente voltato verso i carabini e le lici così come indica la posizione del suo corpo la slide della polizia di Stato relativa alle traiettorie dei nove colpi che attinsero Leonardo mostra freccette rosse da sinistra a destra questo è in contraddizione con le precedenti perizie a meno che la relazione attuale ci dica che le precedenti perizie sono sbagliate da cosa è stato dedotto visto che non è possibile o perlomeno non è stato possibile effettuare nuovi esami oggettivi sul cadavere del maresciallo Leonardo dei nove colpi che hanno attinto Leonardo tutti provenienti da sinistra secondo la rilevazione due hanno colpito parti vitali una al capo finito poi sul cuore gli stessi colpi sarebbero potuti provenire da destra ma questa ipotesi è stata esclusa ovviamente ove ciò fosse i colpi erano mortali e Leonardo non si sarebbe potuto muovere si può solo ipotizzare che questi primi due spari abbiano ucciso sul colpo Leonardo mentre si voltava verso l'appuntato Ricci ed è quindi Leonardo scivolato in anime sul sedile da dove poi è stato attinto dai restanti colpi sparati da sinistra la relazione della scientifica non tiene conto anche della testimonianza di Lalli 16 marzo 78 legione carabinieri di Roma in base alla quale c'era un tiratore con caricatore molto lungo tipico di quelli a doppia alimentazione pagina 24 volume 30 commissione Moro 1 quest'arma non è descritta casualmente nemmeno da Morucci Lalli aggiunge mi colpì la padronanza del tiratore che sparava tenendo la mano sinistra sulla canna e con la destra imbracciato il mitra tirava con calma e determinazione volume 4 commissione Moro come è noto a voi più che a noi i tiratori addestrati militarmente non toccano mai il caricatore durante l'azione perché il caricatore è sensibile e toccandolo porta ad incerpamento l'ingegnere Alessandro Marini nel 1978 parla di 8 sparatori la signora Eufemia Efadini nel 1978 parla di 7 o 8 sparatori i brigatisti è bene ricordarlo questo passaggio importantissimo lo dicono loro sparano con residuati bellici che si inceppano il brigatista Fiori come ha detto il senatore Fornaro non spara nemmeno un colpo il brigatista Buonavita dice testualmente in via Fani avevamo armi scassate con qualcuno dei quattro brigatisti prima versione che se la faceva sotto Morucci parla di quattro brigatisti poco esperti di armi e non cita i tiratori esterni le brigate rosse negano la presenza del tiratore scelto sostenuta non da questa commissione dal testimone Lally e dalle parizie balistiche come sostiene la procura generale di Roma nel novembre 2014 prima perizia del 78 su 93 bossoli repertati i periti sostengono che 49 come diceva Fornaro fossero stati esplosi da una delle cinque armi dei brigatisti perché la sesta è quella del poliziotto di Ozzino seconda perizia del 94 si parla di 68 colpi invece di 93 in entrambe le perizie prima e seconda il tiratore scelto che spara molti colpi ci sta sempre terza perizia primo ottobre 1983 l'esame della Fiat 130 dice che i colpi esplosi erano diretti ad evitare Moro e avevano direzione avanti dietro sinistra destra per il carabiniero Ricci per il maresciallo Leonardo invece la direzione era destra sinistra leggermente dietro avanti ma certamente alto basso commissione Moro volume 45 pagina 36 la perizia attuale sostiene cosa non dimostrabile che Leonardo abbia effettuato una giravolta poggendo al killer il fianco destro se ciò fosse vero Leonardo sarebbe posizionato tra i due sedili invece così non è tutte le perizie sostengono che Leonardo sia stato colpito da destra essendo tra l'altro il più addestrato e pericoloso della scorta del presidente Moro come sostengono anche i brigatisti appare incontrovertibile che Leonardo e Rivera sono stati sparati da destra perché entrambi presentano tramiti intrasomatici con andamento da destra verso sinistra e quindi con partenza degli spari da destra verso sinistra la tesi che sostiene che è impossibile sparare contemporaneamente a Ricci e Leonardo appare debolissima ed è contraddetta dall'analisi dell'auto e dei colpi sui cadaveri Leonardo ove non fosse stato sparato da destra come iozzino e zizi sarebbe sceso dalla parte destra dell'auto certamente non dalla sinistra affermare che in solo due persone hanno sparato la Fiat 130 è secondo noi errato in quanto contro l'auto risultano colpi calibro 9x19 parabellum provenienti da due armi diverse una con canna 6dx da 1,60 e una con canna 6dx da 1,10 in aggiunta venne utilizzata una pistola 7,65 parabellum mai attribuita a nessuno dei presenti è certo a differenza della tesi di Morucci che chi aveva la pistola 7,65 esplose due colpi contro la Fiat 130 forse occorre un'analisi dettagliata delle armi utilizzate dall'EBR prima e dopo il caso Moro e capire chi ha fornito le armi all'EBR e dove siano andate a finire quelle scomparse dopo l'azione perché non ricostruiamo l'intera storia delle armi di Viafani abbiamo parlato prima e lei ha dato un'ottima spiegazione del Mitra M12 ma noi conosciamo la matricola dell'M12 e quindi possiamo costruire la storia dell'M12 cosa che sinora non è stata fatta su Benedetti che io ho scritto qua ci siamo capiti sul perché lui sarebbe semmai il caso di capire come fa ad usare il banco di prova e ho capito ma non lo è più dottor cioè io credo che il giorno in cui con felicità dei presenti qualcuno mi caccerà dalla camera non potrò più fare il deputato non so perché ho capito lo stesso diritto avrà lei il presidente se ci sarà il problema è un altro è che Benedetti il problema è che Benedetti non è che entra no Benedetti usa il banco di prova come deposito statale come se fosse una cosa sua è una cosa un po' difficile da immaginare va bene grazie a te onde evitare che ti aggravi la tua ulteriore posizione in conto terzi prima di sostenere che il periodo Benedetti compie abusi di professione o di esercizio della propria professione ti pregherei di documentarti per non confondere mai cosa che chi fa parte di una commissione in chiesa deve averci chiaro la vittima col carnefice perché se Benedetti fosse quello danneggiato e tu continui a dire queste cose Benedetti potrebbe risentirsi come io presumo che alcune cose le ignori se tu poi adesso non possiamo tediare tutti ti fai domandare non è che quello sta lui al banco di prova ci ha detto domandaccia che anche è una cosa diversa va bene in questa storia ci sono troppi innocenti come mai mancano i due proiettili sul corpo i colpevoli stanno tutti in commissione come mai mancano i due proiettili sul colpo di Leonardo quello sull'Austin Morris e le due cartucce a terra la pistola Walter con matricola a brasa dov'è? perché non ricostruiamo la matricola e la storia di un'arma così rara che sicuramente non può venire da un furto in armeria visto che all'epoca il calibro 9 Parabellum era vietato la relazione infine parla del caricatore ma non si evince nessuna prova per vedere in quale arma è possibile usare il caricatore è possibile avere tutte le CT e le perizie balistiche vecchie che sono state messe sul CD si parla di un punto centrale dello sbossolamento ma a noi non sembra lei l'ha detto prima che sia stato effettuato quindi non sappiamo dove e come sbossola un'arma come facciamo non sapendo questo ad essere sicuri delle traiettorie se a terra sono state trovate cartucce e caricatori vuol dire che qualcuno ha provato a risolvere durante l'azione l'inceppamento chi sparava in quel momento quanto ha sparato Iozzino aveva 15 o 16 colpi da dove proviene il bottone dei carabinieri trovato a terra vicino all'Austin Morris le rosate di tiro che ho spiegato prima sui corpi e sulle auto sono molto strette ma non coerenti con i colpi andati fino al secondo piano allora in via Fani c'era chi non sapeva sparare e colpiva il secondo piano e chi invece era molto bravo a sparare e colpiva gli uomini della scorta a pagina 36 si parla di un proiettile calibro 9 corto trovato nel bagagliaio dell'Alfa dopodiché di questo proiettile non si parla più perché lo cito c'è una motivazione Moro è stato ucciso con una Walter 9 corta i reperti della morte di Moro sono presenti abbiamo idea di dove si trovino il dottor Boffi se sbaglio correggo se no poi parla di comparazioni ancora in fase di lavoro se è vero questo leggendo la relazione come ha fatto a consegnare il lavoro se sta ancora lavorando o evidentemente quello che ci è stato dato è parziale e stiamo in tema di working in progress si parla di altezza di sparatori noi sappiamo quanto sono alti i brigatisti presenti sulla scena del crimine a voi sembra che sparassero con il mitra da fianco o lo impugnavano mirando sparavano a raffica o a colpo singolo queste armi come voi sapete hanno il selettore di tiro sono state fatte le prove un tiratore addestrato non spara a raffica si parla di proiettili deformati dal vetro nella relazione è stata fatta la prova sperimentale o le analisi microscopiche alla ricerca del vetro sulla superficie del proiettile anche se ci fossero oggi sarebbe leggibilissimo perché Ricci è colpito a brevissima distanza noi pensiamo che parlare della macchina in movimento è azzardato e poco sostenibile a pagina 58 si parla di sbossolamento a due metri come si fa a sostenere questo sbossolamento se non ha provato scientificamente il tiro infine è poco chiara l'arma di colore viola indicata in relazione in relazione che si muove sulla scena del crimine secondo noi bisogna approfondire proponiamo ovviamente non a voi alla commissione che dovrà discuterne di ripetere per viafani la ricostruzione della scena in scala 1 a 1 in un capannone come è stato fatto per Ustica perché probabilmente la ricostruzione della scena ci aiuta a posizionare e a passare dalle ipotesi ai fatti per la storia Valerio Morucci ha un mitra FNA che si inceppa e viene disinceppato all'ottavo colpo si inceppa definitivamente la pistola di Morucci Browning HP non è usata Raffaele Fiore ha un mitra M12 che si inceppa e non spara la pistola Browning HP non è usata Prospero Gallinari ha un mitra TZ45 che si inceppa al quinto colpo usa la pistola SV39 calibro 9 Parabellum Mario Moretti ha un mitra il Mab 3842 ma non spara la pistola Browning HP non spara Franco Bonisori ha un mitra FNA che spara pochi colpi perché si inceppa usa la calibro 765 Beretta 51 se facciamo la somma dei colpi sparati dai brigatisti al totale non ci arriviamo la commissione Moro 1 volume 45 pagina 65 sostiene che i cadaveri degli agenti riportino questa disamina dei colpi Leonardo almeno 6 proiettili Ricci almeno 9 Rivera almeno 8 Iozzino almeno 10 Zizzi almeno 3 totale colpi 36 la perizia dell'epoca dice che un mitra FNA 43 ha sparato 49 colpi chi lo aveva visto che i brigatisti fanno dichiarazioni dalle quali si evince che nessuno ha sparato una quantità di colpi superiori a 8 l'FNA ha caricatori da 10 20 30 e 40 colpi a seconda della quantità di colpi che quell'FNA conteneva lo sparatore minimo ne ha cambiati 2 se ne aveva da 40 perché se ce ne aveva da 30 ne ha cambiati 2 se ce ne aveva da 20 ne ha cambiati il doppio se ne aveva da 10 il quadruplo e se invece c'erano due FNA 43 in possesso di due persone diverse è un'ipotesi come quella della relazione la perizia ignora preventivamente questa possibilità la perizia balistica del 2005 dice Leonardo 9 colpi più 3 Ricci 7 meno 2 Rivera 8 gli stessi Iozzino 17 più 7 colpi dei quali 7 sono dell'FNA 43 al massimo 8 colpi sono la pistola di Gallinari che aveva sparato in altre direzioni il totale teorico su Iozzino è di 15 colpi e gli altri 2 che gli aveva sparati Zizi 3 colpi come la relazione precedente la relazione sostiene che i brigatisti ho finito hanno usato prima le pistole e poi i mitra i brigatisti dicono il contrario alcuni testimoni parlano prima di colpi singoli e poi dei mitra se i brigatisti non ammettono la tesi dei testimoni e della relazione che io condivido forse perché vogliono coprire la presenza di alcuni sparatori in base a quale metodo scientifico si ammette la sequenza dei colpi nulla infine dice la relazione sul caricatore trovato per strada non sappiamo se e quali munizioni conteneva l'ultimo rigo è dedicato al fatto che la relazione a meno che non ci sia una motivazione non fa nessun riferimento alla ben nota questione della moto Honda dottore glielo dico perché chi non sta qua e legge i giornali o legge vede le slide o vede i resoconti o sente qualcuno a commissione nel momento in cui sparisce la moto Honda il giudizio sommario da ignoranti di chi lo esprime è la moto Honda non c'era in via Fani allora voi dovete cercare di darci la spiegazione del perché non l'avete messa probabilmente perché ci avete un'altra idea ma va chiarito perché il messaggio che è passato è che voi avete cancellato la moto Honda io non ci credo ovviamente Morucci e Moretti non negano la presenza in via Fani della moto Honda ma negano che fosse delle Brigate Rosse e negano gli spari da destra la moto Honda di cui parla una sentenza passata in giudicato che qualche volta è stata dimenticata è considerata carta straccia anche da qualche magistrato in commissione e nella presentazione di libri è citata dai testimoni Luca Moschini Alessandro Marini e Giovanni Intrevado ammettere la presenza della moto Honda vuol dire ammettere la presenza di altre due persone presenti all'agguato a tal proposito si ricorda che Moschini testimonia all'epoca di una moto Honda presente dinanzi al bar Olivetti intorno alle nuove grazie onde non lasciare gente che non dorme stanotte per la scomparsa della moto Honda e io vorrei tutti farli stare tranquilli darei tre minuti al dottor Giannini dieci minuti al dottor Boffa per alcune cose di primo impatto e dopodiché ci riaggiorniamo in primo luogo reperti Moro recuperati c'è quindi poi potranno essere dall'autovettura dalla pistola la pistola PKK stiamo verificando la Scorpio ma non credo che ci dovrebbero essere difficoltà bossoli e palle recuperati palle e proiettili poi per quanto per quanto riguarda il discorso poi parlerà il collega però voglio precisare che l'attività della scientifica è stata una ricostruzione delle dinamiche di sparo non delle dinamiche di partecipazione e delle modalità ed è stata quindi la in memoriale Morucci le ricostruzioni delle sentenze il fatto di chi fosse il brigatista che cosa avesse fatto è tutto mi correggerà il collega se sbaglio ma non è proprio rientrato nell'ottica del lavoro ma è stato solamente fatto quello delle traiettorie con i dati che si avevano questa in premessa poi un'altra brevissimo brevissimo cenno che voleva fare il lavoro della scientifica non è un lavoro incompleto ma è un lavoro dove ancora non è terminato ma era stato già detto l'altra volta e poi sarà consegnato che fa un diverso ufficio da quello che ricostruisce la scena del crimine quello di analizzare i singoli reperti per chiarire quelle cose che lei dirà però questo tipo di dati non influiscono sulla ricostruzione della dinamica proprio perché non ci poniamo o non ci si è posti nel lavoro di stabilire chi ha fatto cosa ma solamente né quanti né quanti né quanti mi corregga se ho sbagliato io avevo capito che non a caso le traiettorie non sono neanche tutte ma sono quelle quello che avete detto voi quelle che avete potuto ricostruire e peraltro avete fatto come si vede dalle foto che anche l'onorevole Grassi avrà visto e l'onorevole del senatore Fornaro ci sono i coni di possibile impatto ora quelli sono i tre punti da cui stando a quello che si è letto oggi e non che si è visto allora sono partiti dei colpi ora se lì li hanno sparati in due in cinque o in sette o in dieci questo è un altro discorso cioè noi non abbiamo chiesto di sapere questo perché noi non abbiamo chiesto di sapere perché non non l'avrebbero potuto fare e noi abbiamo chiesto di vedere se si riusciva ad associare dopo la prima per ricordarcelo noi dopo la aver provato con infelisi a farci raccontare che non ci ha detto dopo che altri non ci hanno detto diciamo vogliamo mettere insieme le perizie balistiche le perizie anatomopatologiche quello che è stato rilevato allora sapendo che non ci abbiamo una serie di cose le possibili traiettorie ricostruibili ma se voi vedete il numero dei bossoli scusa perdonami no perché su questo a me questo è chiaro non era chiaro a nessuno di quelli fuori di qua e basta andarsi a vedere l'articolo sul Corriere della Sera del giorno dopo perché prendo una tavola a caso la tavola 26 non individua i coni mette quattro sparatori e questa roba qua è stata interpretata da chiunque con la conferma che a Viafani hanno sparato in quattro esattamente come sempre io ti faccio io prendo no ma prendo altro di questa cosa ti prendo una cosa più quello che no no però lo sottolineassimo con la matita rossa sono d'accordo no ma non è che la sottolineassimo basta che quando ci parliamo ci ascoltiamo perché io non ho memoria visiva ma ho memoria ascolto ti ricordo che l'altra volta il dottor Boffi intervenendo ha detto ne aggiungo e dico quattro perché da più parti è stato scritto ma se io dovessi perché Benedetti ha detto che ci ma per me se io dovessi dire le traiettorie che ha ricostruito sono dentro i tre coni della sanità questo l'ha detto l'altra volta poi la prossima volta onestamente ma se ci avessero portato tre coni invece che quattro figure noi che gli avremmo detto poi adesso io capisco ognuno si affeziona le proprie cose però no ma mi sembra un chiarimento fondamentale no questo io da questo punto di vista lo apprendo come un chiarimento fondamentale perché altrimenti come dire la lettura è esattamente la lettura che è stata data dopo quella ricostruzione che non è puoi prendere l'altra tavola per favore prendi l'altra tavola così vedi il cono capisci che non sparavano con obbice si capisce che so traiettorie ma io mi ricordo che Donaddio alla fine dice ma mica sono tutte le traiettorie sono una parte la risposta la parte sono delle che si sono ricostruiti ma quella non è la relazione quelle sono delle tavole dimostrative per far vedere tutti i passaggi ma noi ci dobbiamo preoccupare di noi abbiamo una relazione depositata di quello che legge sulla stampa perché non è mio interesse andare sui giornali è mio interesse portare a casa dei risultati quindi quello che scrivono i giornali se ne risponderanno i giornali questo parezza chiaro però c'è un tema scusa presidente poi taccio e chiedo scusa al torbò questo mi sembra importante da chiarire nell'interesse di tutti non so come dirci nell'interesse di tutti che quindi a questo punto è stata fatta un'ipotesi di questo genere mettendone quattro sul luogo della cosa ma che rispondeva diciamo a logiche dopodiché nel momento in cui ci viene dato questo ed è una rappresentazione per me ha lo stesso valore della relazione mi perdoni questo è l'allegato alla relazione e quindi lo prendo come un elemento dopodiché fino ad oggi l'ipotesi dei quattro è quella prevalente per un certo punto di vista da parte del memoriale Morucci ed è invece quella che è stata ricordata più volte anche dal collega Grassi un'altra versione che ne prevede almeno sei noi però una linea di indirizzo ce la dobbiamo dare perché ieri ci siamo inquietati perché è venuto un signore e ci ha detto queste sono le sentenze abbiamo fatto tutto bene non serve che fate altro e allora noi siccome noi riteniamo per chi è credente che il Vangelo è uno e non è le sentenze le hanno fatte ognuno ha aggiunto un pezzo tant'è vero le hanno fatte sette e otto e non è che noi quando non ci piace una cosa chiamiamo le sentenze adesso non dico a te ma dico in generale non ci piace una cosa ricordiamo la sentenza ce ne piace un'altra la sentenza anche il Presidente non ho detto questo no ma no no ma io questo vale per tutti non adesso però non c'è dobbiamo andare in segreto un attimino onorevole grazie 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 con una battuta per noi di motoonda possono essere passate anche cinque non c'è una evidenza oggettiva è una battuta di cattivo gusto perché c'è una sentenza che dici che ne stava una ma noi non ma no è una battuta di cattivo gusto che va contro le sentenze ma con questo per dire che non andiamo contro le sentenze se non la mettiamo semplicemente non abbiamo un dato guardi io ho fatto presente che voi non avete parlato della motonda lei non mi può offendere dicendo che per lei ce ne possono stare 5 io la ritengo un'offesa mi dispiace se l'offesa ha la domanda se era presente ma è la seconda volta, l'ho fatto anche l'altra volta io lo faccio notare l'altra volta mi ero sentito offeso io tuttavia comunque alla domanda sulla presenza della motondomena era già stato risposto l'altra volta e vabbè non ci dilunghiamo allora di cose da dire ce ne sarebbero tante partiamo dagli aspetti che sono stati sollevati più volte su questi colpi che hanno attinto il maresciallo Lunardi siamo tutti d'accordo che il maresciallo Lunardi sta attinto da 9 colpi e 5 passanti 5 passanti significa che i 5 colpi hanno attraversato il corpo del maresciallo e hanno finito la loro corsa da un'altra parte che deve essere o all'interno dell'autovettura o sul corpo dell'autista da qualche parte devono aver finito allora non c'è una evidenza all'interno della 130 che è perfettamente conservata di impatti di proiettili provenienti dal lato destro questo è un dato di fatto e potete anche verificarlo voi sulla 130 noi abbiamo rilevato 12 impatti qui ne abbiamo denominati da lettera AI che sono 9 ma la spiegazione adesso vi verrà chiarita anche se era già stato detto l'altra volta ma lo ribadiamo molto volentieri allora questa l'avete già vista questi impatti li abbiamo già visti con il dottor Giannini che ha spiegato chiaramente quello che rappresentano cioè colpi sparati da sinistra questi li abbiamo visti prima oh, questi qui allora l'avevamo già visto anche l'altra volta qui abbiamo tre impatti che appartengono a un unico proiettile un proiettile è entrato sull'autovettura colpendo il montante del deflettore anteriore sinistro ha colpito il sedile dove era presente il maresciallo Leonardi e ha finito la sua corsa sulla parte interna dello sportello anteriore destro questo è un unico proiettile è un'unica traiettoria per questo le lettere sono meno del numero di impatti e non c'è alcun dubbio credo che questo proiettile non possa non aver colpito il maresciallo Leonardi perché questo io non lo so però sicuramente lo ha colpito e la stessa cosa possiamo dire per l'impatto E o meglio il proiettile che ha causato due impatti è sempre preso il sedile e sempre preso il portello anteriore quindi almeno due colpi certi provenienti da sinistra hanno preso il maresciallo Leonardi questo siamo tutti d'accordo qui ci sono altri due impatti per i quali non è stato possibile stabilire una specifica traiettoria ma certamente provengono da sinistra e vedete che sono comunque all'altezza della seduta di una persona che sta seduto su questo sedile anche se non ha colpito altre parti questo ci torniamo dopo questo torniamo dopo ok scusate un secondo no si vedevo un piccolo ah ok punto maresciallo Leonardi allora questi sono i colpi che hanno attento il maresciallo Leonardi e come giustamente avete detto voi i due colpi ritenuti sono stati valutati almeno uno dei due è certamente immediatamente mortale colpisce la testa passa per il cuore colpisce il polmone quindi quello se lo avesse preso come primo colpo avrebbe impedito qualunque movimento l'avete detto anche voi noi concordiamo su questo quindi se quello fosse stato il primo colpo preso lui non si sarebbe potuto muovere e se non si sarebbe se non si fosse potuto muovere come avrebbe potuto prendere gli altri colpi sul lato destro se abbiamo almeno due forse quattro colpi certi che provengono dalla sinistra e che lo hanno colpito ma il medico legale le perizie medico legali si espongono sul maresciallo Leonardi dicendo che i colpi certamente provengono da destra perché si trovano di fronte a una situazione in cui hanno due vittime uno con colpi tutti da sinistra e uno con colpi tutti da destra non hanno visto la scena del crimine non hanno fatto nessuna valutazione della loro effettiva posizione e quindi in maniera del tutto logica deducono questa informazione però poi che succede? alla fine delle loro relazioni sia per quanto riguarda Rivera ma anche per quanto riguarda il maresciallo Leonardi dicono tuttavia va considerato che le traiettorie intrasomatiche devono tener conto della contestualizzazione sulla scena del crimine allora normalmente un medico legale professionale come lo erano loro questa considerazione la mette come prima cosa ripeto trovandosi di fronte a questa evidenza così eclatante si sono esposti un po' di più ma il fatto vero è che il corpo di una persona attinta da colpi di armato a fuoco deve essere contestualizzato sulla scena perché la posizione del cadavere sul tavolo settorio non è quella che lui ha nel momento in cui viene ha detto prego loro fanno però un passo in avanti come lei ricorderà cioè ipotizzano una fase 1 e una fase 2 cioè loro dicono ci sono i primi colpi colpiti da destra e poi c'è una seconda fase in cui questi colpi sono arrivati da sinistra loro dicono sempre da destra no no da una doppia fase e da una doppia fase anche su ravvicinate e più distante lo permetto perché io avevo fatto caso a questa a questa vicenda però l'ho invito un attimo a fare mente locale su quelle immagini che le ho fatte vedere e che sui proiettili e a fare presente che noi non abbiamo nessuna evidenza visto che l'arma è la stessa di quello che dovrebbe essere una sorta di giro intorno all'auto di una persona che spara da tutte le testimonianze questo solo come cenno se praticamente se è la stessa arma se è la stessa su questo sono d'accordo che prendere noi dovremmo avere un testimone che vede qualcuno che gira ma non è solo le due osservazioni che fanno sono a cui dare una risposta perché non è che il fatto che non le digano poi non ci vuole però non ci sono evenienze dentro la 130 questo non esclude ma loro su quello ragionano di questo vorrei capire non ci sono evenienze sulla 130 e i due colpi ritenuti dal maresciallo Leonardo sono sicuramente provenienti dalla stessa parte e sono identi sono sicuramente dell'FNA no no sono provenienti dalla stessa non volevo dire dalla stessa arma dei colpi ritenuti nella 130 sparati da sinistra questo è il discorso quindi ci dovrebbe essere stato lo stesso che fa un giro intorno alla macchina per farlo questo è quello che stanno dicendo sì ma non è soltanto questo è che se noi ammettiamo che i primi due colpi esplosi sono quelli ritenuti esplosi con l'FNA e poi lui gira spara a sinistra nel frattempo il corpo del Nardi si deve essere spostato ruotato perché i colpi lo hanno attraversato da sinistra verso destra oltre a questo va anche considerata un'altra cosa tolto l'agente Iozzino che ha avuto sette colpi ritenuti perché esplosi da una distanza dico ragguardevole stiamo parlando sempre di 4-5 metri massimo tutti gli altri hanno pochissimi colpi ritenuti questo perché le armi utilizzate sono state in maggior parte i colpi esplosi sono state in maggior parte esplosi da armi a canna lunga e da breve distanza tant'è che Rivera ha due colpi ritenuti esplosi uno certamente con la 7-65 e probabilmente anche con l'altra pistola come mai ci sono questi quattro colpi ritenuti in Leonardo che poi di fatto due sono ritenuti nel corpo gli altri due sono fuoriusciti ma non hanno fatto in modo Leonardo era a fianco dell'autista che è stato attinto da sette colpi tutti i passanti questi sette colpi passanti devono aver terminato la corsa da qualche parte molti di questi non sappiamo dire quali hanno colpito anche il maresciallo Leonardo allora hanno attraversato un corpo con un'energia genetica che esce minore molto minore di quella del bio di volata colpiscono ancora il maresciallo Leonardo e non riescono a perforarlo completamente quindi in realtà il colpo in testa non è il primo ma quasi certamente uno degli ultimi e che gli dà forse ammesso che fosse ancora in vita nel momento in cui riceve questi ultimi colpi il colpo di grazia che poi lo fa scivolare definitivamente ma non c'è comunque nessuna evidenza di colpi esplosi da sinistra e con cinque colpi passanti da destra mi scusi grazie e con cinque colpi passanti e di cui quelli ritenuti almeno uno certamente mortale all'istante come possiamo posizionare cioè io in realtà rigiro la domanda come possiamo posizionare il maresciallo in questo testo c'è un dato un dato certo è che i due colpi quelli diciamo uno entra da destra esce da sinistra nella testa e l'altro fa praticamente questo giro passa la mandibola spalla polmone e cuore l'autopsia dice che questi due non importa quale dei due ma entrambi sono mortali istantanea e l'autopsia continua a ripetere il fatto che non c'è nessun segno il Leonardo sostanzialmente non ha nessun segno di di sofferenza e io continuo a rimanere questo l'avevo notato anch'io perché effettivamente i due i due proiettili che vengono trattenuti che sono mortali entrambi sono tutte e due dell'FNA 43 rimane per quest'altro dubbio che è la domanda che poi vi ho formalizzato non è che non è che nessuna necessità che ci sia adesso la risposta perché qua forse ci vorrebbe un aiuto anche diciamo di un medico da questo punto di vista o qualcuno che si occupa perché l'unico dubbio è che prendendo per buona la vostra ricostruzione e quindi la posizione se riesce a farla vedere nella in una di queste le posizioni che noi abbiamo disegnato sono del tutto alle dote qua non l'abbiamo riportata però ragionevole cioè da questo punto di vista quadra tutto se viene attinto in quella posizione no no non questa c'è un'immagine dentro la macchina allora devo prendere c'è un'immagine un'immagine con lui dentro la macchina eccolo qua sì esatto questa qua allora se uno viene colpito qua e il dubbio che ora rimane è questo se uno viene colpito qua e sappiamo benissimo che quei due proiettili che lo attraversano sono mortali mortali a quel punto credo per una ragione fisica cioè che come abbiamo sempre segnato che la testa è più pesante del corpo il cadavere a quel punto tende ad andare in avanti in grembo all'autista ce lo ritroviamo esattamente dalla parte opposta rannicchiata due considerazioni la prima veramente ma questo lo abbiamo scritto nella relazione l'ho ribadito più volte l'altra volta queste sono del tutto indicative perdone dottore però sì ma spiego il perché c'è un punto però dove viene attinto è una posizione molto per essere colpito da sinistra riuscire a essere beccati qua sopra è evidente che sei chinato altrimenti non è possibile ma può darsi che lui fosse già chinato contro appoggiato già al sedile con la testa in questo modo già colpito da vari colpi l'ultimo colpo attraversa è un'ipotesi l'ultimo colpo attraversa l'autista lo colpisce nella testa e poi discende così questo è un movimento cioè che non è pensabile cioè qui abbiamo messo tre traiettori che lo colpiscono contemporaneamente queste sono supposizioni entrambe cioè tu parti dal presupposto io che no fammi non mi interrompe se non hai quello parte dal presupposto che quelli sono due colpi mortali uno sicuramente più dell'altro perché io su quello cerebrale ho qualche dubbio che sì sì io esprimo una mia opinione visto che faccio quel mestiere incidentalmente sul primo sono certo il secondo può darsi ma poi se sono stati mortali all'inizio o alla fine e questo cambia perché è vero come dici te tu hai due aspetti che resta una reazione del corpo che quando ti arriva addosso il proiettile tu hai l'effetto che ti fa sulla tua fisiologia cioè se defungi o non defungi ma c'è l'effetto cinetico della spinta che ti dà il bossolo quando arriva se ti è avvenuto per primo è un discorso se ti avviene per ultimo è tutta altra cosa mi accorgo che però questa ricostruzione qua contrasta col percorso del proiettile della testa allora che entra a destra ed esce nella regione nucale a sinistra e lì invece non c'è allora qui ci sono contemporaneamente tre traiettorie che lo ottingono questo per noi forse avremmo potuto anche non metterlo per niente il manichino era soltanto per dire che delle traiettorie possono averlo colpito e sono andate a finire nei punti di impatto che abbiamo definito è evidente che lui non può ricevere tre colpi contemporaneamente perché sono in successione quindi è del tutto indicativa questa posizione non deve essere presa come stava in quel momento in quella posizione quando ha preso quel colpo era questo che intendevamo dire l'abbiamo detto più volte però mi perdoni se ha un senso e lo credo come l'abbiamo capito i colleghi che ovviamente è fondamentale ricostruire un punto di partenza è un punto d'arrivo dei proiettili ma il punto d'arrivo è sulla macchina sì sì il punto d'arrivo è sulla macchina però ci dobbiamo mettere un manichino ma ripeto lo so che c'è questa immagine io lo devo dire non tenga conto di questa immagine era soltanto per dire che ci sono che quelle traiettorie che sono partite da sinistra hanno certamente attinto il marcio Leonardo in una fase di movimento iniziale e poi si è fermato e poi è stato probabilmente attinto da altri colpi quando era fermo era per dare un senso del movimento queste non sono le traiettorie sono sicuramente le traiettorie che hanno colpito la macchina perché vanno a finire nei punti che abbiamo individuato e poi abbiamo posizionato il manichino in un movimento che tra l'altro è anche abbastanza innaturale ma era semplicemente per mettercelo perché se non ce lo avessimo messo voi ci avreste detto come mai non ce l'avete messo ma è puramente indicativo però questo è stato detto più volte e ok però io penso che sia chiaro a questo punto che noi abbiamo impatti che provengono da sinistra di colpi che sono stati esplositi da sinistra che hanno colpito il mascello Leonardo che gli unici due trattenuti sono quelli immortali e che quindi se ha ricevuti come primi colpi non avrebbe avuto la possibilità di fare alcun movimento certamente non dopo aver preso quello in testa e lui certamente prestava al fianco destro quando ha ricevuto alcuni colpi da sinistra certamente i colpi i proiettili sono della stessa arma e in più c'è un'altra considerazione che adesso le mostro allora questi sono i vetri ma il vetro della portiera a destra è frantumato? è frantumato solo in questa parte solo in questa parte allora essere frantumato solo in questa parte significa che se i colpi fossero stati disposti da destra quello doveva sarà più lato ecco guarda dove è lì qualcuno ha sparato da destra questa è la parte rotta del vetro di destra vedi l'altezza qui vedi la minimina lo doveva sparare dall'alto per prenderlo lì considerando che la direzione di sparo non si può affaginare no non c'è lì in questa l'abbiamo riresa diciamo non l'abbiamo messa riesce a vederlo questo lo spazio vuoto quindi lo vede che qui è ancora tutto integro così come è quasi tutto frantumato quello di sinistra è entrato da sinistra è uscito da destra allora questi quasi certamente è il risultato di proiettili che hanno attraversato probabilmente l'autista e poi hanno superato la macchina sicuramente comunque colpi esplosi da sinistra ci sta però perché c'è quel famoso impatto F di cui noi non siamo in grado di ricostruire la traiettoria e lo abbiamo detto e lì ci sono due proiettili uno certamente della Smith & Wesson associato dalla perizia Salsa Benedetti della Smith & Wesson e un altro che si presume essere sempre di una pistola potrebbe anche essere compatibile dalla uscita della 128 che uno si butta sulla Minimino e spara dentro la macchina cioè che uno arriva e sale sulla Minimino e spara dentro la macchina beh no in ogni caso no davanti c'è la 128 sì davanti c'è la 128 quindi se uno esce dalla 128 teoricamente siccome ci sono delle ricostruzioni che dicono che hanno rotto il vetro hanno sparato dentro sì ma dal lato sinistro la ricostruzione del processo parla di tutte e due escono così sì sì no però la testimonianza di uno che rompe il vetro lì sembra che toccano le due macchine l'unico modo è che quello che esce dalla 128 sale sulla Miniminor e spara così è fermo dove? no e non ci arriva deve essere più alto deve essere radente all'autovettura cioè questi sono se è stato frantumato da colpi esplosi da destra e dei colpi esplosi da destra noi non possiamo escludere che siano stati esplosi per via di quei due proiettili nel sedile dell'impatto F di cui non siamo in grado di ricostruire la traiettoria perché la cosa sarebbe stata delimente ma ormai ha 37 anni difficile saperlo se i vetri erano caduti dentro o erano caduti fuori ah vabbè questo sì sicuramente questo ci avrebbe aiutato è peccato che non c'eravamo da 37 anni fa se i fuori sì ho capito no no fuori ci sono sicuramente tanti ce ne sono tanti però non è che poi dì che sono quelli di quel proiettile che è uscito fuori perché è venuta sinistra questo diciamo conferma ultimamente la nostra ipotesi per dire che comunque stiamo parlando di event mi scusi ah beh però ci sono anche quelli che provengono dal lato sinistro in ogni caso per questo tipo di frantumazione se proprio volessimo ipotizzare per noi forzando dei colpi esplositi a destra che abbiano attinto il Leonardo perché poi quei due colpi sull'impatto F finiscono sulla seduta sul sedile ma non prendono il maresciallo di Leonardo o forse lo prendono quando era già coricato e sono gli ultimi due colpi che forse gli sparano questo potrebbe essere questo potrebbe essere però il colpo di grazia come l'hanno detto l'altra volta dopo essere passato io signor Liglia dal colpo di grazia ma non i primi colpi questo per quanto riguarda il maresciallo Leonardo se è sufficiente se io vorrei che si convincesse perché qua invece di carattere logico deduttivo se come mi sembra con questo dobbiamo essere tutti d'accordo la persona più pericolosa era Leonardo oggettivamente attaccarlo così come è stata ricostruita riuscendo ad ucciderlo o a neutralizzarlo il prima possibile perché questo doveva essere l'obiettivo fondamentale senza colpire Moro con l'auto in movimento ci vuole uno sparatore straordinario almeno su questo conveniamo no io convengo e le dico tre cose la prima il Masciornardi aveva l'arma nel borsello che era sotto il sedile e questo è un noi lo sappiamo ma i brigatisti non sapevano poteva avercela anche in grembo o ce la poteva aver qua il movimento tornando a quello che ha detto l'onorevole Grassi prima che il movimento che poi ha fatto l'onorevole il maresciallo Leonardo se aveva il borsello sotto non era tanto di andare a coprire Moro ma che si girava per mettere la mano sotto e sparare la mano ce l'ho però è di là il borsello ce l'ha sotto e ce l'ha sotto ce l'ha sotto il sedile e quindi come fa ora non credo che sia Longirino io sarei girato totalmente per pigliarlo perché con la pancia non ci arriverei questo per memoria non so la corporatura dei Leonardo però se fosse minimamente pingue doveva fare quello perché è la cosa che mi ha fatto in mente quello che ha detto Grassi che dice la prima reazione non è quella di coprire Moro ma di trovare e spararlo e la 130 fosse in movimento lo ho ripetuto prima all'altro onorevole è un'ipotesi verosimile noi siamo quasi certi che l'alfetta lo fosse adesso glielo rispiego per il discorso dei bossoli B e K sulla 130 abbiamo spiegato ma la Toto non disse pure che c'era una testimonianza no no tra l'altro ci sono due testimonianze che lo vedono andare a Barzellone a fermarsi una è di uno stesso brigadista che che dice che dopo che ha disinceppato la sua arma si gira e dice le auto erano a questo punto già ferme che vuol dire che probabilmente aveva iniziato a sparare quando erano in movimento e poi c'è la testimonianza del Sanperi mi sembra mi perdoni sulla ricostruzione di Morucci sulla ricostruzione di Morucci che spara dei colpi si inceppa poi torna indietro e non c'è nessuna lo sottolineo nessuna testimonianza che lo conferma e tra l'altro io sono anche abbastanza da un vento che non sia andata proprio così perché se noi non abbiamo dato nessun nominativo alle persone che hanno esploso dei colpi quindi per noi qua ci potrebbero essere dei perfetti sconosciuti questo sia chiaro chi ha esploso i colpi i primi colpi a colpo singolo e quindi tra l'altro le testimonianze che sentono prima i colpi singoli confermano la nostra ipotesi che i primi colpi siano stati esplosi a colpo singolo questo noi abbiamo già detto quindi non c'è una contraddizione c'è una conferma delle testimonianze contro la 130 questi qui questi colpi qui sono a colpo singolo per il semplice motivo che per ricordarci loro l'altra volta hanno sostenuto la tesi che lo sparatore più bravo è quello che fa colpo singolo e fa secco Ricci e Leonardi e non quello che spara 49 colpi perché quello è contro quello l'unica cosa che abbiamo per certo è che Leonardi non viene ucciso perché i due colpi che uccidono Leonardi non sono colpi di pistola ma sono colpi di mitra FN43 a meno che non fosse a colpo singolo quelle armi funzionano a colpo singolo col settore e sono funzionanti riuscire a colpo singolo a sparare in quella maniera e a prendere in quella posizione con la macchina in movimento ma il colpo sulla testa non è non è stato mirato come nessun colpo è stato mirato in un punto preciso tant'è che il primo che uno dei colpi non ha attento nessuno perché ha attraversato il parabrezza andato a fine dentro ma gli altri hanno attinto sicuramente Leonardi poi hanno attinto anche gli altri ma a colpo singolo perché questo l'hiamo visto bene l'altra volta cioè c'è una bella la risposta che voleva il senatore Fornaro è che il tipo di arma FNA può sparare anche a colpo singolo no questo questo per mia ignoranza è bene ah no no certo 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 il primo colpo loro dicono è quello che figlia e mezzo non si affamano va beh questa è un'ipotesi verosimile molto verosimile ma è un'ipotesi allora c'è una differenza tra queste traiettorie e queste queste sono proprio delle rosate per quanto strette ma sono chiaramente delle rosate a raffica qui se i colpi fossero stati esplosi a raffica avremmo dei colpi intermedi tra questo e questi a prescindere se questo è stato il primo su questo se è così cioè su questa ricostruzione vuol dire che Morucci ha raccontato una cosa no mi sembra un dato significativo lo dico a me stesso vuol dire che il memoriale Morucci è da prendere e buttare in un cestino perché ovviamente ma chi è che lo difende questo memoriale Morucci ma non mica lo dico a me stesso posso dirlo voglio dire tre quarti della letteratura sul caso Moro si basano sul troppo il memoriale Morucci chiedo scusa per l'interruzione è la verità ufficiale delle brigate rosse tant'è che Moretti inizialmente lo contesta poi lo fa proprio capito ma noi non avremmo fatto la commissione di inchiesta se ci hanno detto la verità questo è solo per memoria allora non mi fai scusa presidente non è questione polemica lo sto dicendo rafforzando ma io sono contento da questo punto di vista se questa ricostruzione dello sparatore a sinistra di precisione a questo punto perché il fatto che ci raccontano che lo mettono in una cazza in un furgone è una verità che è diventata poi quella vera un giorno Presidente fermiamoci su Via Fani adesso stiamo andando in profondità su Via Fani la ricostruzione poi chiedo scusa sto interrompendo la ricostruzione del dipartimento da questo punto di vista arriva la conclusione che non ragionevolmente non c'è nessun sparatore o tiratore scelto a destra casomai se c'è questo tiratore scelto è posizionato a sinistra in quello che nel memoriale Morucci è Morucci stesso diciamo in quella posizione lì e quindi Morucci non è in grado di fare e di avere quella precisione lì stando diciamo alla cosa io sono contento i nomi ce li mettiamo noi non loro no ma lo sto mettendo io sto mettendo una roba che è un dato è un dato è un dato confermato perché lo scrive lui che spara i primi sette colpi e poi va in oh tanto mi permetto di mi permetto di dire una cosa tanto 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 per per essere chiari ma la nostra posizione la nostra idea l'esame di queste cose io personalmente non credo assolutamente a una versione riduttiva di quattro persone così che fanno questa cosa e tenete anche presente una cosa uno tutte le persone che erano sulla scena del crimine e il possibile intervento progressivo che andava fatto era un piano militare di grande efficacia prova ne sia che uno e non due come dicevo Colini uno che prova a uscire dalla macchina è crivellato da ben diciassette colpi tenete anche presente che qui si è fermata l'azione perché è iniziata ma era stata prevista e questo è per la presenza dei cancelletti per la presenza di quelle persone una reazione di fuoco enorme la presenza di tutte quelle armi che ci viene detta vero o non vero ma sicuramente vero io lo dico per l'esperienza personale anche per la ricostruzione di indagini in cui siamo occupati personalmente con il dottor Spina il dottore Satin Tison la polizia scientifica parlo dell'omicidio Biaggi dell'omicidio anche quando si vogliono minimizzare le azioni ma già che c'è la possibilità di presidiare essere pronti a uno scontro a fuoco a una reazione e bloccare significa che stiamo parlando di azioni importanti importantissime non voglio usare termini che hanno utilizzato altri ma sicuramente una preparazione importante scusi solo una precisazione una strategia che ha un dato di partenza che è quello dell'effetto sorpresa perché al di là della preparazione la preparazione importante non è una preparazione militare voglio intendere non solo militare quanto una preparazione logistica dell'ambiente lei ha perfettamente ragione tant'è che le azioni la fase quando noi facciamo indagini di antiterrorismo una delle prime cose che guardiamo è questa che dice lei perché chiaramente non è che andiamo a cercare possibili momenti nei confronti della vittima ma tutto quello che ha reso possibile l'azione in quei termini l'inchiesta quella che si chiama inchiesta che dura mesi ma aggiungo una cosa che l'ha detto lui che diceva pure lì non ho capito chi di loro quindi loro si aspettavano una reazione di fuoco da parte da Leonardo e loro quindi erano pronti a sostenere uno scontro che non c'è stato per motivi diversi questo è il significato certo anche questo io sono comunque contento che si sia capito che non c'è un appiattimento della ricostruzione sul memoriale delle brigate rosse tant'è che ci sono delle situazioni che sono difformi e differenti e per noi comunque non tornano tante cose come appunto quello che è stato appena appena detto relativamente a quello che è stato dichiarato dagli attentatori l'altra cosa però l'onorevole è andato via perché volevo parlare allora prima di parlare dei bossoli ah no allora intanto rispondo anche all'altra questione allora le armi le armi in sequestro quelle che abbiamo noi sono state testate non sono state testate per la strada ovviamente e l'espulsione del bossolo è a circa due metri se non subisce chiaramente nessun tipo di rimbalzo sul discorso della posizione dei bossoli e dei proiettili sul manto stradale l'abbiamo detto l'altra volta come prima cosa noi in una scena del crimine così modificata con almeno una vatovettura che era in movimento con persone del gruppo di fuoco che si sono mosse sulla scena del crimine tutti quelli che sono intervenuti dare un significato preciso a ciascun bossolo alla posizione di ciascun bossolo è un qualcosa che non solo è molto complicato perché comunque sono stati esplosi 96 colpi 93 colpi da diverse armi eccetera ma fuorviante perché noi non potremmo mai sapere se quel bossolo si trovava in quella precisa posizione perché ci è arrivato direttamente dall'espulsione dell'arma oppure no dov'è che possiamo invece certamente affermare che non è possibile che quei bossoli si siano trovati lì per caso proprio su quei gruppi B e K perché sono gruppi molto numerosi allora che succede se i colpi fossero stati esplosi questo è già stato detto l'altra volta con l'alfetta ferma in questa posizione le iconi di traiettorie sono questi vuol dire che chi ha esploso questi colpi si trovava in questa zona questo gruppo di 27 bossoli si trova al limite massimo di espulsione è possibile dove ha sparato questo quinto però perché io ho le traiettorie che arrivano tutte qua poi vabbè quelle che colpiscono iozzino sono traiettorie in movimento ma se lei lo fa no no queste sono le traiettorie con la macchina ferma cioè questa macchina è ferma così come è da sovralluogo e le traiettorie se la macchina fosse stata attinta da ferma sono queste allora se no però giustamente lui dice se io qua ho un'altra persona ancora che ha esploso degli altri colpi magari ha colpito iozzino può anche essere però poi noi abbiamo perizie balistiche che ci dicono che tutti questi bossoli sono stati esplosi da un'unica arma qua qua mi permetto di di contraddirla dica ci può essere un'ipotesi che è suffragata dalle perizie l'FNA43 mentre quello mentre quello diciamo che noi diciamo di Morucci a questo punto possiamo dire diciamo di Morucci che potrebbe erano identificati nell'altro FNA43 non riesce è talmente vetusto che non riesce in qualche modo a a rigare i proiettili però a rigare i proiettili qui stiamo parlando dei bossoli allora lui ha difficoltà cioè il perito ha difficoltà ad associare i proiettili a quell'arma i bossoli li associa ma in ogni caso a noi non ci interessa se sia quell'arma lì a noi ci interessa che questi 27 più 11 sono di un'unica arma di un'unica arma o di due armi uguali allora le risultanze nostre verranno riportate a breve per quanto ne so c'è conferma della perizia balistica di Benedetti che tra l'altro confermava anche quella di Ugolini perché sulla unicità di tutti questi bossoli appartenenti a un'unica arma che li abbia esplosi sono tutti concordi cioè sia Ugolini all'inizio che poi non è possibile che siano quindi due armi di ipotetica dici due armi vetuste messe male che hanno dato la stessa rigatura erano FN non ci confondiamo le rigature sono sui proiettili quindi che loro abbiano avuto difficoltà ad associare un determinato proiettile che possa aver tinto iozzino a quell'arma ci sta tutto tra l'altro i proiettili sono molto difficili da comparare i bossoli possono essere anche due armi diversi non possono esistere due armi identiche che lasciano sul bossolo la stessa rigatura oppure no io dico rigatura sì ok ci siamo che quello che vogliamo allora io questo preambolo lo feci anche nell'altra presentazione le comparazioni balistiche hanno sempre un margine di soggettività margine di soggettività che diventa sempre più grande quanto più è complesso l'accertamento quindi nel caso ad esempio di arme vetuste eccetera quindi ci potrebbe anche stare e dico che noi abbiamo fatto riferimento a queste perizie abbiamo fatto riferimento nello specifico all'ultima di Salsa Benedetti perché poi migliora le valutazioni di Ugolini su un gruppo di bossoli gli splitta su due armi differenti ma anche la perizia di Ugolini dice che questi 27 più 11 bossoli sono stati esplosi da un'unica arma quindi abbiamo Ugolini Iadevito e successivamente Salsa Benedetti quindi quattro periti balistici e anche i nostri che poi stanno confermando questa ipotesi che ci dicono che tutti quei bossoli sono stati esplosi da una unica arma a questo punto per quanta soggettività ci possa essere io li do per scontati insomma che sia un'unica arma che poi ci possa essere stata un'altra persona ma a quel punto non ci sono i bossoli sufficienti per esaurire il numero di persone nel senso sei armi hanno sparato dal gruppo di fuoco quindi in sei possono aver sparato quattro armi a raffica anche se una ha esploso dei colpi singoli e due pistole possiamo aggiungere le altre due o tre cose che mi sembra le domande perché su Benedetti magari faremo un ulteriore approfondimento ma credo che l'onorevole Grassi abbia capito che è difficile mettere sul banco degli imputati Benedetti però lo verificheremo due cose c'erano uno era stato chiesto del caricatore se era stato associato il caricatore per terra con quale arma era compatibile io ho memoria che in una relazione questa cosa era già stata scritta il caricatore è quello per terra perché abbiamo appurato che i caricatori nelle verità giudiziarie venivano scritte due se non sbaglio però poi nella verità oggettiva delle foto comparate diventa uno solo che è sempre lo stesso sempre sulle vicende del riportato da Marini e mi sembra che voi avrete individuato pure con quale arma era compiegata allora no il caricatore è certamente di una FNA è certamente di una FNA il caricatore che è stato ritrovato sulla scena del crimine e sarà la relazione balistica a dirci se è esattamente appartenuto a quell'FNA cioè se quel caricatore ritrovato è quello che abbiamo noi oppure no certamente è di una FNA questo non c'è il condupo se non lo fosse potrebbe andare a militare all'ipotesi se ne fosse un altro FNA certo e questo è compatibile con le perizie palistiche e l'altro l'altro passaggio la ragazza è fuori però mi sembra che l'altra domanda che aveva fatto è che questa è il caricatore io mi ricordo di una foto che dimostrava che era l'immagine dello stesso caricatore non come alcune sentenze scrivevano che era due la seconda era il proiettile trovato nell'Austin eccetera quello del calibro 9 che non esisteva il calibro 9 ma che qualcuno l'aveva caricata male e per questo si è inceppato allora sì adesso non mi ricordo però era l'altra domanda questo è sempre un risultato della perizia Salsa Benetti hai potuto ascoltare la risposta sul caricatore la perizia Salsa Benetti è sempre il risultato della perizia Salsa Benetti che ci dice che è possibile che quell'arma abbia esploso un calibro 9 ma di lunghezza diversa non necessariamente poi inceppandolo in effetti poi non dice che ha determinato l'inceppamento di quell'arma lì verifiche su eventuali colpi sparati dal cancelletto superiore cioè l'arma che aveva lo Iacono non è mai stata sequestrata potrebbe essere stato lui uno degli sparatori di Iozzino perché un'altra possibilità anche Casimirri che girava stavo arrivando su Casimirri perché abbiamo delle evidenze di bossoli repertati allora fermo restando che le posizioni dei singoli però noi abbiamo bossoli appartenenti a cinque armi su questo lato che sono le quattro automatiche più bossoli della Smitten e Wesson abbiamo bossoli appartenenti tolta l'arma di Iozzino ovviamente alla 765 alla Smitten e Wesson alla FNA prima FNA e anche alla seconda FNA quindi sono bossoli appartenenti a quattro armi da questo lato diciamo che totale sono sei e soltanto l'M12 non spara l'M12 li troviamo solo qui i bossoli però però non sappiamo quali sono ma non sappiamo quali sono perché mentre questo l'avevamo spiegato l'altra volta mentre Wesson non distingue trova un gruppo di otto bossoli associati a un'unica arma Salsapenetti li separano in due tre e cinque però non ci dicono quali sono quindi devono essere qui da qualche parte questi tre bossoli l'M12 ma non sappiamo distinguerli dai cinque della TZ45 posso fare un passo di cui mi assumo la responsabilità portando quindi alle estreme conseguenze la vostra ricostruzione e provando a mettere i nomi vicino e non è compito vostro a questo punto Presidente se provo a ricostruire se ho capito io ripeto mettendo i nomi vicini allora l'unica cosa di cui siamo certi anche da questa ricostruzione è che il terzo cioè Gallinari ne spara cinque troviamo cinque bossoli cinque proiettili non ci sono dubbi ok cinque cioè proprio lui è lì e spara ne spara cinque il primo partendo da basso a questo punto ha sparato no vicino all'incrocio ha sparato colpi singoli era bravo e aveva il compito di far fuori Leonardo e quindi e ricci e quindi iniziamo a togliere diciamo da quella posizione di Morucci il secondo a questo punto se c'era o non c'era è la stessa cosa perché che ne spari uno o non spari nessuno il buon fiore è andato era come andare a fare una scampagnata no lì non c'era Morucci lo sto dicendo ricostruendo a questo punto dove trova c'è un signore X che spara che ha una capacità di tiro che diciamo per fortuna o per capacità comunque fa fuori prende fuori il secondo è andato a farsi una scampagnata il terzo è Gallinari e forse è l'unico di cui il memoriale dice la verità e il quarto se non c'è un quinto quindi io abbandono l'idea del quinto se non è il quarto è uno che spara 49 colpi sì e non è Bonisoli no no ne sto mettendo sempre qua io sto io sto cercando di andare avanti e di far quadrare le cose e sto abbandonando non è che abbandonano la mia tesi sto dicendo non c'è lo sparatore da destra secondo quella ricostruzione se non c'è lo sparatore da destra però c'è un tiratore scelto adesso ci teniamo è quasi l'una o è l'una passata c'è un tiratore scelto che è quello che spara per primo che deve colpire che ha un compito preciso ma non è Morucci che dichiara tutt'altro il secondo è Fiore che è totalmente inutile il terzo è Gallinari che è l'unico che forse dove concide tutto il quarto se non c'è un quinto ripeto se non c'è un quinto il quarto non è l'FN43 di Bonisoli che dice che dopo qualche colpo è un altro è un'altra o è Bonisoli o è Bonisoli che ha mentito o è un altro e non è Bonisoli perché io vi segnalo anche il punto 15 ci ritorno che è la della mia dei miei quelli che ho chiamato appunti perché Bottazzo definisce che su quella sulla 132 salgono in 5 quindi comunque su quella scena uno in più è sicuro su questo mi sembra che in questa ipotesi dove non ce ne sono due in più rispetto ai quattro ma sicuramente uno è sicuro il primo non può essere Morucci non ci sapete dove sta e Moretti e la Balzerani abbiamo detto che ci sono sei armi che sparano questi quattro sono quelli che sparano da sinistra poi esistono dei colpi con Isoli in realtà alla fine ma in una delle testimonianze viene quasi in una forma di esaltazione aggira la macchina e li colpisce e ne fredda sostanzialmente dal colpo di Grazia 2 questo lo racconta lo racconta e ci può stare e poi c'è una sesta arma che spara da destra prendere ringrazia se le spiegazioni date a parte l'alfasurde che non se n'è parlata necessitano ulteriori attività o se siano state ritenute esaustive perché se ci sono altre attività da fare le facciamo ecco siamo a disposizione guardi ovviamente considerato il clima la stanchezza la comprensità del problema poi verifichiamo con calma se le cose combaciano io io se posso dire dare un suggerimento se io non mi ricordo se Proto è ancora in vita se fosse in vita sarebbe preferibile un confronto Proto Barbaro sul tema e poi un'altra cosa lo dico c'è stato un confronto fatto dal procuratore Marini da quanto io ho memoria adesso non allora e lo so ma le carte e noi ce le abbiamo io rifaccio un sollecito analogamente io consiglierei poi se sbaglio dottor Giannini sono disponibili a far retromarci le persone che voi sentite in queste vicende le dovete sentire ufficializzando tutto con come testimoni no abbia abbia pazienza non ci sono persone non sentite come testimoni sono agli atti depositi tutti verbali e lì dove è fatta una telefonata di convocazione o altro facciamo fare le annotazioni io non credo che non ci sia qualche cosa quindi abbiamo diciamo la possibilità di leggerle tutte sì 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 anche nell'ambito dei sette mesi perché sono tante redazioni sì vabbè è chiaro ci mancherebbe altro bene se c'è altro se non c'è altro noi ringraziamo dottor Giannini e ci aggiorniamo la seduta è chiusa grazie grazie a tutti grazie a tutti